l'immagine della sala program è che non mi sa entrare da cazzo ah entra con il vattore no, devi dire se no aspetta che adesso forse ho promosso un'altra grazie 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 di aiutare lo sviluppo delle aziende stesse in un momento così complicato come quello Covid e post-Covid. Credo che i 3200 articoli e citazioni sui giornali, sia russi che italiani, credo che l'ingresso di 28 nuovi soci abbia certificato l'apprezzamento della nostra base della nostra associazione. La nostra attività è stata forte anche nel partecipare a quelli che sono stati gli eventi del sistema Italia. La Camera di Commercio di Russi ha partecipato al forum di Vladivostok, ha partecipato ai due forum di San Pietroburgo e ha partecipato in modo attivo incontrando le regioni, anzi sottolineando quello che è secondo noi l'impegno più importante che è necessario investire nello sviluppo delle nostre relazioni talusse tra regioni e regioni. Questo è il messaggio che abbiamo mandato in questi periodi piuttosto difficili e devo dire che l'espressione di gratitudine ricevuta dal Ministro degli Esteri della Federazione Russi a Dottor Lavrov in occasione del forum InnoPro Maglie Catrimburg durante quest'estate è senza dubbio un segno di riconoscimento per l'impegno svolto. Permettetemi di ringraziare tutte le aziende associate e in particolare quelle che ci hanno appoggiato e aiutato anche in termini finanziari per supportare quelli che sono gli sforzi ma anche i membri del CDA che a titolo gratuito, i vicepresidenti in particolare a titolo gratuito si impegnano e si sono impegnati attivamente nella gestione e nello sviluppo dell'attività della Camera. Una Camera in cambiamento, cambiamento perché ci ha visto ristrutturare quella che era la proposta per le aziende offline in una proposta online. Ci ha visto sviluppare un lavoro molto oggettivamente veloce e importante in questa direzione. E con quest'ottica apro i lavori della nostra assemblea e mi permetto in primis di dare la parola al dottor Darokhin, nostro nuovo membro consigliere onorario del Consiglio di amministrazione che rappresenta l'ambasciata in particolare l'organo per lo sviluppo del commercio e delle relazioni commerciali della federazione russa in Italia. Il dottor Darokhin conosce benissimo l'Italia, conosce benissimo Milano, parla un italiano perfetto, molti di voi già lo conoscono in quanto è sempre, sta sempre stato vicino alla Camera di Commercio russa e tra le altre cose non so come sia in Russia, ma gli ex deputati in Italia continuano ad avere il titolo di onorevole, per cui mi permetto di continuare a chiamarlo con il titolo di onorevole. Prego dottor Darokhin. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Abbiamo condiviso con tutti voi l'approvazione e la documentazione relativa al bilancio del 31 12 2020 e la relazione del collegio dei rifisori e del budget del 2021. È chiaro che è un anno oggettivamente piuttosto complesso, un anno sia il 2021, quello che oggi vediamo purtroppo non fa trasparire tutte le speranze che avevamo di lasciarci il Covid alle spalle, ma tutto sommato fa trasparire una certa dinamica positiva. Il 2020 senza dubbio è stato un anno molto più complesso, ciò nonostante per il 2020 sentiremo la relazione dei soci e la situazione contabile della Camera è andata tutto sommato abbastanza bene e il budget 2021 è piuttosto positivo, ma mi permetto di lasciare la parola mentre esprimiamo il nostro voto sulla scheda consegnata, lì al punto 3, sull'approvazione e bilancio al 31-12-2020, lascerei intanto la parola al rappresentante del collegio dei Revisori per leggere la nota di revisione. Prego, dottor Luqueschi. Signori soci, buongiorno. Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31-12-2020, redatto dal Consiglio di Amministrazione, evidenzia un avanzo di esercizio di 23.566 euro, dopo aver accantonato 21.727 euro al fondo TFR e 3.422 al fondo Imposte. Il bilancio evidenzia attività per 366.593 e passività per 346.591, quindi con un avanzo di gestione di 23.565. Il bilancio controllato dal Collegio dei Revisori è conforme alle risultanze della contabilità della vostra Camera tenuta in modo regolare e corretto. Tutti gli impegni previdenziali e fiscali sono stati rispettati. Le entrate commerciali istituzionali ammontano complessivi 566.168, mentre le uscite ammontano 542.602, secondo il dettaglio indicato nella relazione a cui vi rimando. Il risultato dell'esercizio 2020 è stato, come per tutte le realtà economiche operanti sul territorio nazionale internazionale fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19. Pandemia che ha determinato la contrazione dei ricavi commerciali nella consuetudine della nostra attività strettamente connessi a spostamenti all'estero, eventi in presenza, servizi di assistenza e viaggiatori. Il contributo dei soci con i versamenti delle quote ordinarie, sostenitori ed anche con elargizioni straordinarie, insieme all'ottenimento di contributi a fondo perduto attraverso apposite le stanze, hanno permesso di fronteggiare questa situazione e di conseguenza un avanzo di gestione. Dal punto di vista dei costi, quelli del personale sono stati limitati grazie al ricorso alla cassa integrazione, resa possibile dalle norme di carattere straordinario emanate dal governo del nostro Paese. I costi della sede, affitti, utenze, imposte dirette e manutenzioni si sono mantenuti stabili. Stabili si sono mantenuti anche i costi della rappresentanza a Mosca. Ed in relazione alla rappresentanza a Mosca, con riferimento all'esercizio in esame, è stato conferito a Deloitte un incarico specificatamente finalizzato alla definizione delle procedure consigliate per dare una rappresentazione consolidata dei valori della sede italiana e dell'ufficio di Mosca e alla produzione di una prima informativa consolidata. Informativa che indica la strada eventualmente attuabile per giungere ad una omogeneità di dati da consolidare e i cui dati numerici evidenziano queste prime indicazioni. I ricavi totali istituzionali e commerciali di entrambi gli uffici si attestano ad Euro 730.036. I costi invece di entrambi gli uffici si attestano ad Euro 692.000 e il risultato consolidato è quindi pari ad Euro 30.196. Relativamente alle previsioni per l'esercizio 2021, è realisticamente difficile ipotizzare un risultato di pareggio, considerando il perdurare della pandemia e delle conseguenti misure di limitazione delle attività e degli spostamenti. Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31-12-2020, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione e propone di rinviare a nuovo l'avanzo di gestione. Grazie per l'attenzione. Ringrazio il dottor Lukeschi e l'onorevole e grazie per la vostra presenza e per il vostro supporto. Con questo possiamo consegnare la scheda di voto 2 e 3 e ci avviamo alla conclusione della nostra Assemblea Generale. Mi permettete di illustrarvi da questo punto di vista un importante cambiamento che abbiamo all'interno della struttura? Tutti quanti noi in modo automatico chiamiamo la nostra Camera di Commercio, Camera di Commercio Italo-Russa, ma quello che vorrei sottolineare è proprio la parte russa della nostra Camera di Commercio. Cosa intendo dire? Intendo dire che sia all'interno dello staff della rappresentanza di Mosca, sia all'interno del staff nella sede nostra italiana in Corso Sempione abbiamo staff russo e italiano. In particolare a Milano abbiamo avuto il vice segretario generale da sempre, il dottor Kasloff, qui in sala, presente ad assistere, ad aiutare quelle che sono le aziende russe nell'approccio in Italia e nello stesso tempo ad aiutare i colleghi nella sua e nella loro difficoltà nell'approcciare e nel consigliare le imprese nel muoversi verso la Russia. Oggi in sede di Consiglio di Amministrazione è stato votato quella che è normalmente una procedura di rotazione e che prevede le dimissioni del dottor Kasloff per fine contratto e l'avvio, l'inizio dell'attività del dottor Galsoff, qui presente in sala, in qualità di vice segretario generale. Il vice segretario generale è una funzione molto importante all'interno della Camera perché bilancia proprio questa presenza russa per cui permettetemi di concedere un minuto, due minuti al dottor Kasloff e successivamente al dottor Galsoff per dare un breve messaggio a tutti voi. Grazie. 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 Grazie, Vasili. Vasili, io forse eccedo con i miei termini, Presidente Fontana, ma Vasili è un figlio di Milano, è un figlio dell'Italia, perché ha studiato, tra le altre cose, in una delle migliori università italiane di Milano, per cui sono veramente onorato di averlo come nuovo vicesegretario generale e nello stesso tempo una parte del mio cuore è chiaramente dispiaciuta del distacco con il dottor Kasloff. Cercheremo di rendere questo distacco non un vero distacco, ma lavorare insieme ancora. Intanto i risultati del punto due dell'ordine del giorno, ringrazio tutti per le votazioni, abbiamo trentatré favorevoli, un astenuto, una scheda bianca, e per il punto tre abbiamo trentatré favorevoli, due schede bianche. Permettetevi di ringraziarvi e di dichiarare chiusa la seduta dell'Assemblea Generale e invito la dottoressa Laura Bettin, che si è voluta gentilmente offrire per aiutarci nella gestione e nella moderazione del nostro convegno pubblico, di raggiungere il palco e lascio quindi a lei la parola. Grazie mille a tutti. Buongiorno a tutti, è un vero piacere ritrovarvi dopo circa un anno e mezzo. Sono molto lieta anche di sapere che si intravede una dinamica positiva. Laddove si intravede una dinamica positiva vuol dire che le cose non solo tra Italia e Russia, ma in generale, stanno finalmente andando molto meglio. Presidente Trani, vogliamo salutare insieme la sua platea, che è davvero numerosa ed è un bellissimo contesto. In questa parte pubblica della riunione, alla quale interverranno quindi anche molti altri, al di là dei soci della Camera di Commercio Italo-Russa, parleremo di export, joint venture e quindi dell'importanza della collaborazione tra le aziende italiane e le regioni italiane e quelle russe. è un'importanza che è economica, chiaramente, è un'importanza che va anche al di là forse dell'economia, perché comunque sono relazioni, comunque è conoscenza, comunque è crescita, crescita comune che ci serve, di cui abbiamo un gran bisogno anche per la pace, la stabilità, la tranquillità di tutti noi. Presidente, le cedo la parola per un saluto e per l'apertura di questi lavori. Grazie mille, dottoressa Bettin. Io ho l'impressione che la figura di Presidente sia un po' onnipresente in questa Camera di Commercio Italo-Russa, ragione per cui sarò brevissimo e lascio semplicemente il benvenuto e i miei saluti alle autorità che parteciperanno oggi al nostro convegno pubblico. E un particolare ringraziamento va chiaramente al Presidente Fontana per la sua partecipazione. Ecco, mi viene in mente da questo punto di vista che dopo tanto tempo ormai in cui non eravamo abituati agli eventi in presenza, ci stiamo piano piano riavvicinando. Nella stessa logica e secondo le stesse dinamiche, la Camera continua a offrire i vecchi servizi e continuerà a offrire vecchi servizi offline accanto ai webinar che ormai stiamo svolgendo sempre più attivamente. E non posso fare altro che ringraziare ognuno di voi per la vostra presenza, per il vostro, detto tra noi, anche coraggio nell'affrontare questa nuova vita post-Covid e coraggio nell'affrontare, anche se seguendo tutte quelle che sono le norme di sicurezza, anche gli eventi in presenza. Dopo un anno e mezzo di eventi online, credo che ci rendiamo sempre più conto di qual è il valore personale che ognuno di noi dà all'altro nella comunicazione, anche nel business. E questo valore personale non traspare durante le nostre video call. non traspare durante le email o durante i messaggi, anche se audio via WhatsApp. Abbiamo bisogno di comunicare. E la Camera di Commercio è una piattaforma di comunicazione, raggio per cui non può non avere una presenza di persona e una relazione costante con tutti quelli che sono i propri membri e i propri associati. Ringrazio quindi tutti voi per essere qui presenti e chiaramente gli speaker in particolare, le autorità e vedremo molti videocollegamenti. Ci auguriamo che col tempo i videocollegamenti diventano visite di persona e perciò ancora una volta un grazie particolare al Presidente Fontana per la sua presenza di persona qui con noi oggi. Grazie. Se possibile continuerei con questo microfono. Sì, ok. Di modo che il palco lo lascio libero per i nostri ospiti. Allora, Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM, per un saluto anche alla platea associato e partner di questa giornata. Lascerei a lei il microfono principale. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Spero mi sentiate. Mi scuso e colgo in parte il rimbrotto. Mi sentite? Adesso sì, la vediamo e la sentiamo forte e chiaro. Grazie. Allora, un saluto a tutti. Colgo un po' il rimprovero del Presidente Trani che approfitto per salutare affettuosamente con una conoscenza che ho da quasi vent'anni nelle sue attività a favore del nostro paese e nell'interesse del nostro paese in Russia. Mi dispiace non essere presente con voi, ma trovo che soprattutto quando si tratta di scambi tra paesi anche lontani, come da un punto di vista geografico, sia importante comunque esserci e far sentire la propria voce. siamo molto onorati di essere al fianco della Camera di Commercio Italia Russa come Banco BPM, una banca che sta negli ultimi anni guadagnando posizioni nell'interscambio, nei rapporti con la Russia e nell'aiutare appunto i nostri imprenditori a trovare sbocchi commerciali, ad essere partner commerciali in un paese così importante e così complementare, penso di poter dire, con il nostro paese. Un paese appunto ricco di materie prime, dove appunto la capacità delle imprese italiane di trasformazione, di creazione, di una capacità di creare prodotti che sono così appetibili poi anche in paesi importanti come la Russia è un mix penso molto molto buono. La Camera di Commercio aiuta molto in questo senso, noi ci sentiamo molto vicini e vogliamo continuare a collaborare con le aziende che hanno interesse, sia quelle russe che vogliono in Italia, sia con le aziende italiane che hanno interesse in Russia. Siamo già molto attivi in tutte le operazioni di trade finance, buyer's credit, che possono aiutare anche da un punto di vista finanziario l'approccio a paesi che anche per motivi diciamo regolamentari possono avere delle complessità. La nostra presenza con un gruppo di persone specializzate proprio nel mondo della regolamentazione e della compliance, nei rapporti commerciali, negli scambi finanziari è di grande aiuto penso per avere un approccio più facile con paesi appunto apparentemente geograficamente più lontani. Non voglio rubare più parole, più tempo se non confermare il grosso supporto da parte del Banco BPM all'iniziativa della Camera di Commercio, all'iniziativa dei nostri imprenditori e degli imprenditori russi con interessi nel nostro paese, sappiamo che ce ne sono tanti. Mi fa molto piacere di vedere oltre alla presenza imprenditoriale una presenza istituzionale così qualificata dalle presenze già richiamate dal Presidente Trani e che confermano l'interesse dell'Italia per il paese Russia. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie a lei avremo tra l'altro poi modo di vedere nel corso dei lavori quale tipo di supporto può dare BPM al supporto al quale ha appena all'uso l'amministratore delegato Castagna. Presidente Fontana, a lei il palco, i rapporti e le relazioni tra Lombardia e Russia sono consolidate di lunga data e sicuramente quindi ascolteremo con piacere quanto ha da dirci. Certo, grazie. Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente Trani per l'opportunità di essere oggi qui presente. Io devo ringraziare anche l'ambasciatore Terracciano e l'ambasciatore Razov che mi hanno dato la possibilità di intervenire prima di loro perché purtroppo è una giornata un po' complicata e quindi dopo questo mio saluto sarò costretto ad allontanarmi immediatamente. Volevo però esserci, volevo essere presente a questo incontro perché ritengo che l'argomento che oggi viene trattato sia di estremo interesse per il nostro paese ma anche per la nostra regione della quale posso parlare più esplicitamente. Usciamo sicuramente da un periodo estremamente difficile sia per le note sanzioni e controsanzioni sia soprattutto per la pandemia che ci ha colpito in maniera molto pesante nell'ultimo anno e mezzo l'intescambio è estremamente ridotto tra Lombardia e Federazione Russa al punto che abbiamo assistito ad una riduzione del 48,59% con una riduzione dell'export a Lombardo del 15%. I dati stanno migliorando, è stato detto poco fa da un intervento, stanno migliorando così come sta migliorando molto la situazione interna della nostra regione. La campagna vaccinale che ha avuto grande successo accompagnata alla grande capacità, la grande volontà, la grande ottimismo dei nostri imprenditori ha consentito di superare quelle difficoltà che erano state previste e che in parte fortunatamente non si sono verificate. faccio un ricordo un unico elemento si temevano purtroppo centinaia di migliaia di licenziamenti e per ora non si è verificato tutto questo anzi in certe zone della nostra regione come la provincia di Bergamo addirittura abbiamo assistito ad un abbassamento della percentuale di disoccupazione siamo al 3 per cento che è al di sotto delle medie direi fisiologiche però è fuori dubbio come queste situazioni debbano portare quindi anche a un miglioramento dei rapporti tra Lombardia e Repubblica e Federazione Russa. noi guardiamo nell'internazionalizzazione sicuramente come un punto importante delle nostre politiche regionali stiamo mettendo in essere una serie di strumenti fortunatamente per la programmazione 21-27 sono previste delle risorse maggiori dalla parte dell'Europa intendiamo investire una parte di queste risorse anche a nuovi strumenti che favoriscano l'internazionalizzazione nuovi strumenti che si sommeranno a quelli già presenti uno strumento che è partito da un po' di tempo ma che sta avendo notevole successo in collaborazione con le Camere di Commercio Estere è stato lo sportello per l'internazionalizzazione al quale le nostre aziende piccole e medie possono rivolgersi per cercare di ottenere quelle informazioni o quegli aiuti di cui ha bisogno per promuovere questo percorso i settori chiavi i quali noi guardiamo sono innanzitutto sicuramente il manifatturiero è un punto di riferimento un punto di orgoglio per la nostra regione la capacità dei nostri imprenditori l'abilità nel riuscire ad essere innovativi e creativi credo possa essere considerata unica nel mondo quindi sicuramente in quel campo noi punteremo molto il manifatturiero ha dato un'ottima risposta poche settimane fa pochi giorni fa con il super salone del mobile che è stata una dimostrazione della forza della nostra regione della volontà di reagire della volontà di guardare con ottimismo al futuro inizialmente si erano sicuramente dei dubbi sull'opportunità di fare di realizzare questo salone io posso dire che ero dalla parte di quelli che insistevano invece perché venisse realizzato e sono veramente contento del successo che ha avuto ricordo il salone del mobile l'ultima edizione alla quale ero presente nel 2018 a Mosca che spero possa riprendere il suo corso e possa ricostituire un punto di riferimento per il mercato russo nel campo del mobile ma sta ripartendo ed è ripartito anche quell'altro ambito che io ritengo estremamente importante per la nostra regione quello del settore delle fiere le fiere sono sicuramente un ambito nel quale noi crediamo molto sul quale abbiamo e stiamo investendo sostenendole e crediamo che sia un'altra dimostrazione di questa ripartenza di questo rinnovato entusiasmo io penso poi che sicuramente si debba fare riferimento come altri ambiti alla metallurgia alla meccanica all'automazione industriale a tutti quegli ambiti che fanno riferimento all'innovazione alla ricerca e che guardano con attenzione alla tecnologia e a quelle materie che fanno parte del dell'ambito nel quale si deve investire di più perché è l'ambito dell'innovazione e della ricerca ieri abbiamo presentato per esempio il nostro premio ricerca nell'ambito della ricerca che sta riscuotendo grande successo ma ripeto la regione Lombardia sta investendo molto in questo ambito dovremmo ancora investire di più cercheremo di attrezzarci cercheremo di destinare risorse maggiori per i prossimi anni ecco io ricordo semplicemente come la regione Lombardia abbia già in essere una serie di collaborazioni istituzionali con la regione di Mosca con la regione di Novosibirsk con la regione di Leningrado e che altre proporremo e che altre sicuramente coltiveremo con impegno ultima cosa voglio ricordare che il 30 settembre se qualcuno vorrà partecipare prenderà il via il summit museale russo italiano un altro mezzo attraverso il quale confortare rafforzare ribadire la grande amicizia e grandi la comune cultura che ci unisce al popolo russo e alla Russia in genere con la quale appunto i rapporti sono stati sempre ottimi che vogliamo in futuro ulteriormente migliorare auguro a tutti voi buon lavoro e credo che forum come questi siano estremamente importanti per entrare nell'operativo e per mettere sul campo le osservazioni le richieste e le proposte utili per migliorare ottenimento i nostri rapporti grazie buon lavoro grazie davvero anche per aver ricordato sia l'appuntamento del trenta di settembre che appunto tocca un ambito nel quale le relazioni russe italiane sono sempre state fortissime sia per aver ricordato il salone del mobile che è stato un segnale di grande ripresa e anche di fiducia un'iniezione di fiducia per il si può fare adesso cito un po' la trasmissione che conduco io che si intitola si può fare ecco è stato fatto grazie presidente buon proseguimento adesso abbiamo una serie di collegamenti perché la digitalizzazione presidente ci priva della vicinanza però ci consente ci consente alcune relazioni che qualche anno fa non avremmo pensato così normalmente di mettere in un programma ecco quindi il primo collegamento l'abbiamo con Maglio Di Stefano è il sottosegretario di stato al ministero degli affari esteri la regia sicuramente ci collegherà non appena sarà possibile dopodiché come anticipava anche il presidente Fontana poco fa avremo gli ambasciatori sia italiano a Mosca sia russo a Roma per poter sentire anche il loro saluto e il loro la loro introduzione a questi lavori ok è con piacere che rivolgo i saluti agli organizzatori del convegno della Camera di Commercio Petrorussia intitolato dall'export alle joint venture l'importanza della collaborazione tra aziende regioni italiane e russe l'incontro di oggi che non a caso si tiene a pochi giorni alla visita in Italia del ministro degli esteri la prof costituisce un'ulteriore occasione per ricordare la solidità delle relazioni commerciali di Italia e Russia vorrei poi indirizzare un caloroso saluto anche a tutte le rappresentanze istituzionali e imprenditoriali qui presenti l'ampia e qualificata platea di oggi testimoni infatti una volta di più l'interesse con cui si guarda al potenziale ancora da sfruttare tra i nostri due paesi tengo a ricordare che la Russia è un paese prioritario per la nostra strategia di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese come stabilito nel corso dell'ultima riunione della cabina di regia per l'Italia internazionale i motivi per cui la federazione russa è per noi un partner economico e commercialo imprescindibile sono evidenti abbiamo un interscambio che nell'ultimo anno ha superato i 16 miliardi di euro e che prima delle sezioni legate al contenimento della pandemia superava i 22 miliardi di euro le prospettive sono comunque molto incoraggianti secondo gli ultimi dati Istat nei primi 6 mesi del 2021 l'intescambio bilaterale ha registrato una crescita del più 22,2% rispetto allo stesso pericolo dello scorso anno e il nostro export ha raggiunto i 3,6 miliardi di euro con un incremento del 13,3% è un rimbalzo molto atteso che rappresenta in modo concreto un rilancio dopo l'anno scorso segnato dalla pandemia sottolineo inoltre come nel 2020 la Russia sia stato il nostro primo fornitore di gas naturale e il nostro quarto fornitore di petrolio greggio al contempo la Russia è un mercato importantissimo per le nostre imprese che esportano e che effettuano investimenti all'estero anche stabilendovi unità produttive permanenti non è un caso che l'appuntamento di oggi abbia come titolo dall'export alle joint venture provi a evidenziare il carattere stabile e duraturo delle collaborazioni dalle nostre realtà produttive e i partner pubblici e privati russi l'industria italiana vanta infatti una lunga tradizione di investimenti nel mercato russo si tratta di un capitale capace di generare continue rendite di stima e fiducia da parte dei nostri amici della federazione e che ha trovato una nuova linfa vitale nel recente superamento di alcune limitate criticità cheppure avevano increspato i rapporti tra le nostre comunità d'affari il superamento di queste lievi frizioni è il segno più tangibile dello storico rapporto di fiducia che lega la nostra impeditoria alla federazione russa a riguardo desidero rinnovare il nostro interesse a sostegno a sostenere le iniziative in corso di modernizzazione e diversificazione dell'economia russa molte aziende italiane infatti sono pronte a contribuirvi con soluzioni tecnologicamente avanzate e rispettose dei più elevati standard in materia di tutela ambientale voglio ricordare che molti indici di performance hanno confermato nel 2021 la prima posizione dell'Italia tra i principali paesi europei in materia di economia circolare ci tengo inoltre a sottolineare come il nostro tessuto imprenditoriale in Russia sia ampio e diversificato poiché composto non soltanto da grandi realtà imprenditoriali ma anche dalle piccole e medie imprese difatti diversificare i nostri rapporti economici significa anche allargare le collaborazioni imprenditoriali alle PMI che rappresentano il cuore del nostro sistema imprenditoriale e che possano apportare un patrimonio immenso di competenze specializzazione e capacità di innovazione proprio le piccole e medie imprese ci consentono di raggiungere molti altri primati ad esempio nel settore della sostenibilità sono più di 430.000 le imprese italiane che hanno investito in prodotti e tecnologie green nel quinquennio 2015-2019 mentre il numero dei cosiddetti eco-investimenti da parte della nostra azienda è quasi triplicato nello stesso periodo crediamo fortemente che questa tendenza rappresenti non solo il futuro della nostra economia ma sia già una solida realtà nel presente su queste basi possiamo guardare con grande interesse altrettanta ambizione alle future opportunità di collaborazione che sono certo sapremo cogliere insieme concludo ricordando che una di queste occasioni sarà proprio la prossima riunione del comitato di interlusso di cooperazione economica industriale e finanziaria il CIRCEIF alla cui organizzazioni stanno lavorando le diplomazie e le società civili dei due paesi che tratta di un appuntamento di primaria importanza nell'ambito del partenariato economico bilaterale e che si è andato caratterizzando negli anni per la sempre maggiore attenzione rivolta alle PMI ringraziandovi per l'attenzione auguro a tutti un buon lavoro spasiba bassoi direi un messaggio di straordinaria apertura insomma di ponti che vengono così costruiti che speriamo si possano percorrere in tempi brevi a questo punto ci colleghiamo con Mosca con l'ambasciatore Pasquale Chito Terracciano l'ambasciatore d'Italia nella federazione russa di modo che potremo sentire anche il suo saluto e il suo polso delle relazioni ovviamente nell'ambito di cui stiamo parlando oggi ambasciatore buongiorno desidero unirmi ai ministri Lavrov e Di Maio nel salutare tutti gli ospiti presenti a questo convegno in particolare il governatore Fontana l'ambasciatore Razov e il presidente Trani e sono particolarmente grato di avere l'occasione a pochi giorni dallo scadere del mio mandato come ambasciatore d'Italia Mosca di poter partecipare ancora una volta a un momento di riflessione congiunta sullo stato delle relazioni economiche fra Italia e Russia sulle loro sulle loro prospettive e sulle azioni da intraprendere per farle ancora crescere in questi anni ho sempre sottolineato come la solidità delle nostre relazioni economiche sia radicata nella complementarietà dei nostri rispettivi sistemi economici la Russia è un paese ricco di maniere prime e l'Italia è la seconda manifattura europea inoltre la Russia ha intrapreso un processo di reindustrializzazione e diversificazione della propria economia e l'Italia è in grado di fornire le tecnologie necessarie a tale processo infine non meno importante è anche una ragione di ordine più ampio l'amore dei russi per il nostro paese la sua lingua e cultura le sue destinazioni turistiche la sua gastronomia e più in generale la reciproca simpatia che lega i nostri due popoli è questo speciale legame di ragioni economiche e di reciproca attrazione che rende questo rapporto così solido e resiliente a riprova di ciò basti pensare che nonostante in questi ultimi anni non siano mancati momenti di difficoltà tanto sul piano politico che su quello economico nessuna delle nostre imprese ha lasciato il paese anche le cifre dell'interscambio che pure hanno a volte subito delle drastiche contrazioni hanno sempre mostrato una vivace reattività sono quindi convinto che ci siano prospettive molto incoraggianti per le imprese italiane interessate a questo mercato e a questo riguardo vorrei innanzitutto complimentarmi con la camera di commercio e con il presidente Trani per aver posto al centro dell'incontro di oggi il ruolo delle regioni come molti di voi sanno nel corso del mio mandato in Russia sono sempre stato un convinto sostenitore della necessità di guardare oltre l'orizzonte di Bosca di San Pietroburgo città senza dubbio importanti e centri economici dinamici che però non rappresentano che una parte delle straordinarie opportunità che la federazione offre ai nostri imprenditori per questo motivo in questi quasi quattro anni ho svolto missioni economiche in tutto il paese da Vladivostok a Sabbetta da Murmansk al Caucaso senza tralasciare regioni in forte crescita come la Siberia o gli Urali in moltissime di queste occasioni ho avuto l'opportunità di constatare in prima persona l'eccellente lavoro svolto dalle aziende italiane in Russia da Danieli a Nish di Novgorod Pirelli a Varonezh Saipem con l'avveniristico cantiere di Murmansk o ancora le centrali campi eonici di Enel o le aziende presenti nella zona economica speciale di Lipetsk queste aziende ma potrei citarne anche tante altre rappresentano altrettante storie di successo che ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano nel proseguire con decisione sulla strada di un sempre maggiore approfondimento della collaborazione economica con la Federazione Russa ho inoltre avuto modo di confrontarmi con i governatori con i responsabili locali della politica economica industriale e ho potuto apprezzare anche l'utile ruolo di tramite fra le istituzioni economiche e la realtà imprenditoriale svolto dalle associazioni che mi hanno sempre offerto spunti di riflessione molto interessanti da questi incontri ho avuto conferma di un'economia in forte evoluzione anche in zone molto lontane dalla capitale spesso con tassi di crescita molto positivi e con un grande interesse per le competenze e le tecnologie delle nostre aziende questo offre evidentemente alle imprese italiane interessanti prospettive da un lato sotto il profilo dell'export prioritario per la nostra economia visto che l'Italia secondo la ricettura europea è tradizionalmente evocata all'esportazione di beni e servizi e a riguardo mi fa piacere poter sottolineare come le statistiche elaborate con la consueta competenza dall'ICE mostrano un intrescambio in forte ripresa dopo la drastica contrazione subita nel 2020 con le nostre importazioni in Russia che crescono di oltre il 20% per sostenere questo trend positivo una particolare attenzione va a mio avviso dedicata ai settori che possono maggiormente avvantaggiarsi nel processo di modernizzazione dell'economia russa dall'abbandono di un modello economico dipendente eccessivamente dall'esportazione di biocarburino si tratta di una svolta già avviata con decisione dopo la crisi del 2014 e che la transizione verso fonti di energia pulita che comincia a prendere piede anche in questo paese necessariamente accelererà molta attenzione quindi al comparto della meccanica la prima voce del nostro export in Russia del chimico farmaceutico un settore in forte espansione ma anche clean tech rinnovabili biotecnologie apparecchiature medicali questo senza tuttavia tralasciare alcune voci cardine del nostro sistema produttivo quali l'agroalimentare che pure con le note limitazioni derivanti dal regime delle controsanzioni ha segnato in questi anni un forte recupero il sistema moda o il settore casa e design dall'altro lato il processo di trasformazione in atto nell'economia russa cui accennavo in precedenza apre anche nuovi e ampi spazi alle imprese italiane interessate a produrre in questo paese eventualmente attraverso joint venture produttive con partner una collaborazione basata su progetti comuni e sulla condivisione di tecnologie e che non va vista in antitesi con un modello economico basato sull'esportazione di qualità ma come il suo naturale complemento nei mercati produttivi più maturi per aumentare complessivamente l'offerta d'Italia in questi anni in Russia ne ho parlato spesso sottolineando a mio avviso la necessità di affiancare al tradizionale made in Italy anche il concetto del made in Italy la collaborazione industriale è infatti un elemento imprescindibile per le relazioni economiche mature di cui beneficia a sua volta tutta l'imprenditoria italiana a qualsiasi titolo presente in questo paese permettetemi di concludere il mio intervento con un pensiero al futuro la drammaticità della crisi che abbiamo vissuto impone un ripensamento in termini di sostenibilità delle strategie di crescita il rafforzamento della cooperazione internazionale e la transizione verso modelli economici più resilienti e inclusivi per questo temi come la transizione verso fonti di energia sostenibile la difesa del pianeta lo sviluppo di modelli economici a basso impatto ambientale la gestione delle emergenze sanitarie hanno dominato l'agenda internazionale di questi ultimi mesi e sono stati al centro delle priorità che l'Italia si è posta per la propria presidenza G20 che con il sumi di Roma del 30 e 31 ottobre si avvia a conclusione ancor più questi temi sono stati protagonisti del nostro impegno come co-presidenti in partnership con il Regno Unito della COP26 la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico in tutti questi ambiti di diplomazia internazionale abbiamo scelto di porci degli obiettivi ambiziosi confidando nell'appoggio degli altri paesi del G20 compresa la federazione russa all'esordio di una ripartenza che si preannuncia complessa in uno scenario non scevro da preoccupazioni dobbiamo infatti muovere con convinzione insieme verso la nostra priorità quella di superare la crisi attuale e guardare oltre la pandemia per dare vita a soluzioni sostenibili nella gestione e nell'uso delle risorse a beneficio di tutti è con piacere che rivolgo ringrazio anche l'ambasciatore Terracciano tra l'altro a proposito di COP26 qui a Milano nei prossimi giorni si tiene la pre-COP quindi magari avrete occasione di vedere gruppi di giovani che appunto si impegnano per il clima e per questa tutela del pianeta che poi più che tutela del pianeta è la tutela della nostra sopravvivenza su questo pianeta con i nostri desideri con le nostre ambizioni ma magari con un impatto appunto inferiore rispetto a quello che abbiamo adesso ci colleghiamo con Roma l'ambasciatore Sergei Razov è in collegamento e sentiamo anche il suo saluto grazie a tutti Dall'indietro, amici, buon pomeriggio tutti e Всем привет из Rima! Io faccio da coraz adresaori di oggiatorio, di mangiwale Vincenzo Trani, di città interva prisonzi della psalagna e della risrisda della psalagna, di città interva argomobili del palazzo Lombardia, Lombardia. Gospodino Attila Fontano выступava in questo zale. President Friuli Venecia Giulio Massimiliano Fiedrigo, io ho visto in occhio di computer, il va ancora oggi выступare. Ruovoditi di questi obiettini nemmeno поддержavano l'iniziativa Italo-Rosso di Targurio Pallato. Non è ricordato che oggi parlano, che le nostre situazioni rossi-italiano in questi anni non è riuscita, ma inoltre, in particolare, in particolare, è stato fatto inizia di rossi confrontazione in rossi in rossi in rossi in rossi con Situazione in rossi in rossi è stata anche non è la la pandemia стала одним из главных глобальных испытаний за последние десятилetия e принесла рекордные социально-экономические потери серьезный ущерб был нанесен всем национальным экономикам и системе международной торговли в целом это не могло не затронуть и наши страны здесь уже приводились цифры che nel 2020 obiettivo sottotitolo quasi 20%, ma con un'esplitato sottotitolo sottotitolo questa negativa tendenza, e in primo poligodio 2021 показazioni cresciли in 30%. Ma è ancora molto da ricorda di cifra di iniziato a passato e Italia ha fatto 3-4 место in списso dei partenari nostri strani. Io credo, che siamo in un certo modo in direzione. Mi ricordo, che mi ricordo il 2013 in TRIESTI l'Italianco-Italianco-Sovet, come lo chiamato, c'è parte del presidente Putin, del premio Italiano Enrico Letto e di cento di alcuni ministri s obiettivi. E in 2013, il risultato di risultato di risultato di risultato di risultato di 54 miliardi americani. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Ci ha riportato tra l'altro nel suo intervento al 2013 a Trieste. a questo punto ci colleghiamo con Massimiliano Federiga che per l'appunto è il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Presidente anche della Conferenza delle regioni e delle province autonome italiane. Buongiorno anche a lei presidente. Buongiorno a voi grazie dell'invito mi auguro mi possiate sentire bene. Intanto voglio dire che da presidente della conferenza delle regioni italiane sono onorato di intervenire a questo convegno in quanto particolarmente i rapporti industriali e commerciali tra le regioni italiane e i territori russi sono cresciuti e sono fondamentali per lo sviluppo economico dei rispettivi territori. Se permettete però vorrei fare un ringraziamento particolare al presidente Trani per aver organizzato questo evento e agli ambasciatori Terracciano e Razov per la partecipazione e la continua collaborazione che c'è tra Italia e Russia. Dicevo una collaborazione tra i sistemi regionali e eh camerali della Repubblica Italiana e della Federazione Russa che si è sviluppata in questi anni dopo un periodo di difficoltà non c'è dubbio ma che vede un eh importante aumento soprattutto nel eh periodo post expo. Non vi voglio raccontare nulla che non sapete ma anche il recente studio e pubblicato e rapporto pubblicato eh da Sace Export sul duemilaventuno contiene informazioni molto rilevanti sul tema delle possibili collaborazioni tra aziende eh italiane e aziende russe. Il mercato russo eh come ricorda appunto Sace eh è di fatto medaglia d'oro eh per quanto riguarda i rapporti eh con l'Italia. Eh i rapporti infatti eh di export italiani nel duemilaventuno ha già recuperato i livelli tre pandemici e si attesta eh insieme a Germania e Stati Uniti come uno dei mercati più importanti addirittura più di nostri di partner storici dell'Italia pensiamo ad esempio la Francia. Voglio citare per esempio i fattori della meccanica strumentale, del metallo, della chimica che hanno visto un importante aumento che addirittura supera eh il venti per cento. Eh anche come regione Friuli Venezia Giulia abbiamo dei rapporti importanti, non voglio citare eh tutte le aziende ma è stato ricordato prima, pensiamola Danieli, del eh rapporto strategico di sviluppo che c'è eh nel investimenti italiani e la collaborazione con aziende italiane. È stato citato oggi anche anche le importanti eh anche prospettive del futuro eh che esistono e delle delle alleanze industriali e commerciali che devono esserci tra Italia e Russia. Uno un tema che vorrei sollevare e portare alla vostra attenzione è sicuramente l'approvvigionamento di materie prime che rappresenta un problema per l'Italia, per Europa, penso per il mondo in questo momento. Rischiamo con una speculazione internazionale in essere in questo momento che le nostre rispettive aziende magari che producono materia prima nei nostri eh nei nostri territori si trovano danneggiate in modo molto importante per la carenza di materie prime ed anche per un prezzo che oggettivamente è andata sopra ogni logica commerciale e di mercato. quindi su questo io penso che azioni condivise eh e azioni che possano superare il singolo il singolo stato ma possano tutelare le produzioni dei nostri territori e devo dire infine anche tutte le filiera produttiva ed anche eh i consumatori debbano eh trovare un terreno di confronto e un terreno per arginare eh situazioni come questa. Dall'altro lato anche questo l'ho sentito parlare al convegno sicuramente gli investimenti che guardano la sostenibilità sono investimenti da trattare con particolari riguardi però voglio sottolineare che la sostenibilità non può essere esclusivamente la sostenibilità ambientale che sicuramente è un passaggio fondamentale ma non esaustivo e dobbiamo considerare che esiste anche la sostenibilità sociale di un investimento e la sostenibilità economica dello stesso altrimenti rischiamo di trasformare il corretto e doveroso eh tutela del nostro pianeta e dei nostri cittadini ma in qualcosa che sostenibile non è e quindi si trasforma semplicemente in un' ideologia e non invece da da nuove politiche industriali da mettere a terra. È uno sforzo non c'è dubbio ma penso che sia la strada obbligata da portare avanti per far sì che il cambiamento anche negli investimenti e il cambiamento delle nostre produzioni diventi qualcosa di strutturale e non diventi semplicemente una propaganda ferma in una parentesi e che non possa garantire alle future generazioni un nuovo modello di sviluppo. Per questo eh come sistemi eh regionali eh dei italiani noi siamo vorremmo aumentare la collaborazione, favorire la collaborazione e devo dire che per quanto riguarda le competenze delle regioni eh che riguarda ad esempio sul turismo ma ce ne sono molte altre come sapete vorremmo muoverci come sistema delle regioni italiane finalmente in modo unito e quindi non ogni singola regione eh singolarmente ma muoverci insieme per favorire ovviamente i rapporti dell'Italia con gli altri paesi e la Russia come ho detto è un partner strategico ma riuscire anche ad offrire chi vuole collaborare con il nostro paese ribadisco per quanto riguarda chiaramente le competenze delle regioni un approccio che possa guardare a tutta la nostra penisola in modo coerente e devo dire anche economicamente più vantaggioso perché si parla con un sistema e non più soltanto con un singolo territorio. Io vi ringrazio dell'occasione che mi avete dato nel potere parlare rinnovo i miei eh i miei saluti e spero di poterci anch'io vedere di persona presto oggi la mia presenza o meglio la mia non presenza il mio videocollegamento non è dovuto alla pandemia ma purtroppo dei rappresentanti del governo che vengono sul mio territorio quest'oggi e quindi mi è stato impossibile essere presente ma la prossima volta farò del mio meglio per esserci perché anch'io come è stato detto precedentemente ritengo fondamentale anche i eh rapporti personali che possono esserci e mi auguro di poter vedere presto e penso sarà così eh il l'ambasciatore della federazione russa perché eh chiaramente per quanto ci riguarda i rapporti vogliamo costruirli e guardare al futuro insieme. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie a lei se non viene se non viene il presidente Federica l'anno prossimo andremo tutti nella sua bellissima regione così eh veramente straordinaria da visitare fosse solo per una questione turistica oltre che questioni economiche che già legano molto il friuli Venezia Giulia alla Russia. Passo la parola all'onorevole Matteo Colaninno eh fa parte anche della commissione politica e dell'Unione Europea nel nostro Parlamento presso la Camera dei Deputati è in collegamento buongiorno. Buongiorno dottoressa buongiorno a tutti spero che mi sentiate. Benissimo perfettamente eh le le vogliamo chiedere un po' delle relazioni parlamentari tra l'altro stiamo un po' sondando tutti i campi quindi forse possiamo partire da questo. Grazie grazie al al presidente Vincenzo Trani di questa opportunità che mi ha dato eh grazie a tutti voi mi fa molto piacere partecipare seppur attraverso Zoom ma noi oggi abbiamo qui alla Camera un voto di fiducia e quindi io da eh deputato eh devo rimanere eh a votare e mi spiace non essere fisicamente presente. Mi ha fatto molto piacere ascoltare eh gli interventi che mi hanno preceduto in particolare l'ambasciatore sua eccellenza l'ambasciatore Razoff e il nostro ambasciatore Terracciano. Il compito che lei dottoressa mi ha affidato non è semplicissimo per me nel senso che eh io da da politico eh non svolgo cioè non sono in commissione esteri ma come lei ha ricordato nella commissione eh delle politiche europee e diciamo la politica estera e i rapporti in particolare con la federazione russa avvengono unicamente quando ci confrontiamo con risoluzione di maggioranza in vista dei consigli europei sia eh in Parlamento che con il governo. Io eh credo che eh da 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 tifoso delle relazioni tra l'Italia e la federazione russa da tifoso in particolare dei rapporti tra i nostri eccellenti imprenditori italiani e i vostri eccellenti imprenditori russi mi concentrerei in ambito di politica europea su alcune questioni positive e costruttive in cui l'Italia possa oggettivamente aiutare a intraprendere un nuovo percorso di relazioni positive e costruttive tra l'Unione europea e la federazione russa. In particolare mi concentrerei anzitutto sui temi delle politiche sulla salute pubblica cioè siamo tutti quanti stati investiti da questo tsunami della pandemia credo che mettere in comune le esperienze eh che abbiamo reciprocamente vissuto sia un fatto da fare, da compiere. Così come la lotta ai cambiamenti climatici, alle questioni ambientali in vista anche delle prossime conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sulle biodiversità, il coordinamento tecnico e credo che questo interessi più da vicino anche la nostra Camera di Commercio sulle questioni economiche e sulle barriere commerciali e il controllo dei sussidi e degli aiuti di Stato e infine anche visto quello che abbiamo vissuto negli ultimi giorni di agosto credo che sia fondamentale eh lo dico da politico italiano ma spero che da italiani possiamo aiutare anche l'Unione Europea in questo nella prevenzione dei conflitti nel confronto con la Russia nella prevenzione dei conflitti sulle questioni regionali in particolare riferimento all'Iran al Medio Oriente alla Libia e come dicevo prima quello che abbiamo eh vissuto diciamo sui temi dell'Afghanistan e le questioni geopolitiche globali credo che eh il coinvolgimento eh di un sentiero diverso e migliore e più costrattivo con la Russia sia un fatto politico da intraprendere così come i temi dei grandi trend mondiali che riguardano la cosiddetta rivoluzione green io voglio dirlo anche da imprenditore a questo punto siamo assolutamente convinti che siano la rivoluzione verde la rivoluzione eh ecologica sia un fattore sia un trend irreversibile guidato dalle nuove generazioni voluto dalle nuove generazioni eh credo che sia eticamente giusto eh sostenerlo e ne siamo dentro a tal punto che ritengo che chi si mette fuori oggi da questi trend lo sarà fuori per sempre sarà fuori eh dai mercati dai consumi eh dalla ricerca industriale e credo che l'Italia anche di fronte allo sforzo eh straordinario che il governo Draghi sta compiendo di fronte ai duecento miliardi di euro del PNRR e su questo chiaro che siamo di fronte a favorire un rapido salto nel futuro a un cambio di destino anche industriale economico produttivo del nostro paese e credo che su questo anche per le parole e i dati che sono stati ricordati da chi ha parlato prima di me prima di me il rapporto con la federazione russa con la Russia sia un rapporto da stringere eh ripeto eh il la sua eccellenza l'ambasciatore Rosov ha ricordato e ha nominato alcune delle eccellenze delle imprese italiane che riguardano la meccanica la metallurgia l'automotive mi permetto di dire l'agroalimentare la moda cioè come diceva l'ambasciatore Terracciano siamo economie complementari c'è una reciproca eh sinergia tra i nostri ambiti anche di fronte ricordava l'ambasciatore d'Italia Mosca a momenti complessi non facili nelle relazioni c'è stato un ancoraggio del sistema imprenditoriale italiano molto forte il eh l'intescambio commerciale è ancora su livelli nonostante diciamo i crolli di pil da pandemia ancora elevatissimo stiamo parlando di sedici miliardi di euro ma poi mi piace ricordare in particolare la simpatia alla base in tutto che c'è tra i nostri popoli ricordo come fosse ieri eh una mia partecipazione una delegazione di parlamentari cattolici della Russia cristiana culminata anche con un incontro con il vesco metropolita metropolita a Mosca e l'Arion e ricordo diciamo eh la la simpatia ripeto del del popolo russo nei confronti degli italiani e eh posso testimoniare da tanti amici imprenditori la simpatia il desiderio di costruire relazioni economiche industriali e finanziarie ancora più stabili ancora più forti da parte degli imprenditori e degli operatori della finanza italiana quindi eh la mia partecipazione oggi è una partecipazione sentita sincera sono un tifoso nelle relazioni tra l'Italia e la Russia eh abbiamo dei rapporti industriali che sono storici che sono antichi e credo che la nostra camera di commercio eh abbia fatto benissimo a organizzare eh questa giornata faccia bene a organizzare queste piattaforme fondamentali di interscambio in conclusione vorrei anche salutare in modo particolare affettuoso il presidente Vincenzo Trani che prima dice ma io sono un un presidente onnipresente lo capisco capisco il suo sforzo avendo anch'io guidato associazioni e quindi so cosa vuol dire ho fatto il presidente nazionale dei giovani imprenditori italiani so cosa vuol dire dedicarsi è una dedizione totale e quindi lo ringrazio ancora di più e col cuore per quello che ha fatto e per quello che sta facendo e per la giornata di oggi grazie a tutti vi abbraccio e vi ringrazio di questo invito grazie grazie onorevole grazie a questo punto ehm abbiamo un messaggio che è pervenuto dal senatore della federazione russa rappresentante del governo della regione di Kaluga Anatoli Artamonov ce lo leggerà e facciamo intanto anche le congratulazioni il il neo vice segretario della camera di commercio italo russa il dottor grazie a tutti grazie a tutti i grazie a tutti i grazie a tutti i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La ringrazio molto. Credo che nessuna istituzione manchi o sia mancata in questa introduzione. Adesso arriviamo anche a un aspetto più scientifico e all'approccio universitario. Io invito il professor Matteo Vizzaccaro dell'Università Bocconi. Professore, abbiamo sentito un quadro economico istituzionale direi preciso. Con lei forse entriamo ancora più nel dettaglio. So che ha portato anche delle illustrazioni alla sua relazione. Prego. Molte grazie, molte grazie. È un piacere essere qui. Ringrazio a nome di Università Bocconi il presidente Trani per l'invito. C'è stato richiesto un intervento su come il mondo accademico possa essere a supporto dello sviluppo manageriale e imprenditoriale nelle relazioni, nello specifico Italia-Russia. È una domanda quanto mai attuale perché copre uno dei grandi macro trend che nel nostro settore stiamo vivendo. Vedete il titolo del mio intervento è Lifelong Learning Centric Strategy. Quello che vi propongo è un estratto del nostro piano strategico come Università Bocconi e come SDA Bocconi School of Management. Te ricordo a tutti che la SDA Bocconi School of Management è la parte di SDA dedicata ai manager e agli imprenditori, alla scuola di direzione aziendale. Abbiamo adottato un nuovo piano strategico che prevede appunto questo Lifelong Learning. Quindi un processo di apprendimento volto all'upskilling, al reskilling delle persone, dei manager e degli imprenditori. Un cambio di modello, un modello che non è più demand driven, ma è guidato direttamente dall'offerta, dal provider di formazione. Un'offerta di formazione che segue gli imprenditori, che segue i manager lungo tutto il loro percorso di carriera. Partiamo da alcuni elementi di complementarietà. Si parlava di complementarietà delle nostre economie, è verissimo e questa complementarietà si vede anche nel nostro background in termini formativi. Vedete come andando ad analizzare la percentuale di popolazione by field of study, per campo di competenza, vedete come Russia e Italia sono caratterizzate da alcuni fattori comuni. Sono entrambi focalizzati dal punto di vista dell'education, della formazione sulle scienze, sulla tecnologia, sull'engineering, sulla matematica, piuttosto che sul manufacturing construction, sul business administration and law. Allo stesso modo condividiamo alcuni elementi di attrattività. Vedete come evidenziate in rosso skilled workforce e high educational levels, sono due degli elementi fondanti, gli elementi di attrattività sia di Russia che d'Italia. Quindi abbiamo tante cose in comune e tante sfide in comune. Tante sfide in comune perché ad oggi, visti i cambiamenti in atto, e vedremo dopo, il Covid è stato un amplificatore di questi movimenti, ad oggi il 20% delle occupazioni è soggetto per un 70% a processi di automazione. Il 50% delle occupazioni è soggetto al 40% di processi di automazione. Quindi questo vuol dire che le competenze che abbiamo sviluppato fino ad ora con i sistemi informativi tradizionali oggi sono a rischio perché possono facilmente venire sostituite da qualcuno che fa qualche cosa in automatico. Abbiamo un mercato del lavoro che sta completamente cambiando. Prima avevamo occupazioni ben definite, occupazioni a salario. Oggi siamo molto più basati sui project work, siamo molto più basati sull'independent work, quindi dal salario al pagamento per singoli progetti. Oggi le credenziali accademiche contano fino a un certo punto, conta tanto oggi la capacità di fare un assessment puntuale delle competenze per chiudere il gap fra competenze offerte dall'università e competenze richieste dalle aziende. Abbiamo un tema di skill instability. Vado veloce perché so che il mio intervento deve essere chiuso all'interno di sei minuti. Abbiamo un tema di skill instability. Skill instability vuol dire che a fronte di vecchi modelli, a fronte dei processi di automazione che ci sono oggi sul mercato, a prescindere dai settori, e qui vediamo alcuni dei settori che condividiamo fra Italia e Russia come elementi di forza, sono soggetti a displacement dal punto di vista della forza lavoro. Quindi vedete come una percentuale variante fra l'11 e il 20%, 21% di posizioni di lavoro sono a rischio di displacement perché sostituiti da processi di automazione. E vi dicevo il Covid è stato un elemento amplificatore. Era un processo già in atto ma il Covid ha velocizzato questo processo, ha accelerato questo processo perché ovviamente ha accelerato l'automazione dei lavori. Ha accelerato però anche che cosa? Vedete? Accelerate the implementation of upskilling, reskilling programs. Accanto a processi di automazione, ciò che sta avvenendo sul mercato della formazione è un processo di upskilling e reskilling e vedete come a prescindere dalle caratteristiche dell'economia il maggior tasso di crescita per quanto riguarda l'occupazione è dato da occupazioni che richiedono un livello di competenze piuttosto elevato. Quindi maggiore l'investimento in upskilling e reskilling, maggiore la probabilità di assunzione sul mercato del lavoro e viceversa ovviamente. Come il mondo accademico può supportare questo trend in atto? Sle Bocconi appunto attraverso quella che noi chiamiamo L-Cubo, questo Lifelong Learning Strategy, sta sviluppando, ha già sviluppato tutta una serie di attività, contenuti, network utili agli imprenditori e ai manager per supportare questo processo di reskilling, per supportare questo processo in cui gli imprenditori devono sviluppare cutting edge knowledge, devono sviluppare innovazione, devono imparare a gestire la complessità, devono trasformare l'esperienza educativa da una mera esperienza educativa a qualcosa di più esperienziale. Noi offriamo tutta una serie di programmi, ovviamente dall'undergraduate al graduate, fino al full-time MBA, all'executive MBA e al dottorato in business administration. È un processo di formazione che segue gli imprenditori e i manager lungo tutto il loro percorso di vita e lungo tutto il loro percorso di carriera. Abbiamo attivato durante i due anni di pandemia un nuovo modello di business che non è più basato sul single transaction model, io imprenditore, manager, arrivo in Bocconi, pago, tengo il mio corso e esco, ma è un customer life cycle model, quindi non è più un demand driven model, ma è un supply driven model. Noi studiamo gli imprenditori e i manager con un processo di coaching, con la messa a disposizione di un network piuttosto importante di imprenditori o di soggetti istituzionali all over the world e anche in Russia. In Russia abbiamo un sacco di partnership attive a livello accademico che vogliamo implementare ulteriormente, quindi ovviamente l'invito è rivolgerci a noi nel momento in cui abbiate in mente un processo di sviluppo internazionale in Russia, perché abbiamo dei lab, dei laboratori dedicati ai processi di espansione internazionale in Russia, col presidente Vincenzo Trani, qualche anno fa avevamo già fatto studi in merito sull'opportunità di investimento, questo attraverso, vi dicevo, un cambio completo del modello di business, quindi da un modello di business, da un modello educativo solamente in presenza, anche grazie al supporto tecnologico, oggi siamo in grado di offrire un sacco di opportunità in più, quindi abbiamo progetti di realtà aumentata, abbiamo progetti ibridi, abbiamo oggetti completamente online e vi lascio con questo claim, che è quello, diciamo così, coniato da Università Bocconi, dal nostro presidente, the literate of the future are not those who can't read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. Grazie mille. Grazie presidente. Grazie a lei. Grazie a lei, c'è anche una speranza, nel senso che possiamo cominciare a ristudiare tutti, bisogna anche vederla a parte positiva, la parte positiva è rinventarsi sempre, ricostruirsi. Grazie ancora. Presidente, lei ci ha raggiunto perché c'è una bella novità, io lascio a lei l'onore e l'onore di annunciarla al pubblico. Grazie mille, abbiamo appena ricevuto il video del ministro degli esteri della federazione russa, il dottor Lavrov, che ci saluta e partecipa non di persona ma attraverso il video al nostro evento. Come potete immaginare, è un particolare onore per la Camera di Commercio Trarussa avere una partecipazione di questo genere dal ministro Lavrov, che è non solo una personalità della federazione russa, ma è riconosciuta oggettivamente a livello internazionale come una persona particolarmente importante nelle relazioni internazionali, non solo dei nostri due paesi. Per avere questo onore dobbiamo ringraziare essenzialmente la controparte russa nella persona del vicepresidente Agapov della nostra Camera di Commercio Trarussa e chiaramente i colleghi del ministro degli esteri che hanno in questo senso di più aiutato tantissimo. Manderei quindi il video. Grazie. 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 Gli strumenti a disposizione delle aziende. Questo è il titolo che è stato scelto e quindi i nostri ospiti, per parte russa e per parte italiana,, ti faranno capire su che cosa si può contare nel momento in cui si decide di intraprendere la via dell'internazionalizzazione. invito Diego Mastromauro che è Global Senior Relationship Manager di Sace e quindi cominciamo dal lato italiano. Buongiorno e benvenuto. Grazie a tutti, buongiorno, sono Diego Mastromauro, sono responsabile dell'area di Milano, Lodi e Pavia all'interno della rete corporate di Sace. Innanzitutto chi è Sace? Sace è una società per azioni sotto la direzione del coordinamento del Ministro delle Finanze, offriamo servizi di export credit, garanzie finanziarie, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all'estero, cauzioni, servizi di recupero crediti in Italia e all'estero e servizi di factoring per lo smobilizzo dei crediti commerciali sia in Italia che all'estero. La nostra missione è soprattutto sostenere la competitività delle aziende sia in Italia che all'estero e soprattutto cerchiamo, ovvero è possibile, di trasformare quelli che possono essere rischi in opportunità. Durante l'anno pandemico anche il governo ci ha affidato il compito anche di supportare la liquidità delle aziende italiane e quindi col decreto liquidità tramite l'emissione di garanzie finanziarie. Non da ultimo abbiamo avuto anche il mandato per supportare i processi di transizione energetica, economia circolare, mobilità sostenibile attraverso il nuovo mandato green. Soffermandomi sulla tematica, sull'area russa, che cosa possiamo fare? Le persone che mi hanno proceduto hanno già fornito un po' di dati sulle prospettive, sull'andamento economico delle esportazioni, hanno citato anche il nostro rapporto export, è un rapporto che pubblichiamo annualmente, lo abbiamo pubblicato il 14 settembre scorso. Può essere interessante solo aggiungere che a livello di prospettive non solo per l'anno in corso ma anche futuro sono prospettive per le esportazioni italiane in crescita. Per il 2022 è previsto un incremento del 5,6% e per il 2023-2024 in media circa un aumento del 3,7%. Alcuni settori di interesse sono sicuramente la meccanica strumentale che è vista in crescita dal 6,8% tra il 2022 e il 2024, i prodotti in legno più 7% tra il 2022 e il 2024, alimentari e bevande più 6,5%. Che cosa possiamo fare? Prima cosa che mi piace citare è soprattutto la nostra presenza sul mercato russo. Sace ha a livello internazionale circa 11-12 desk, quello a Mosca è il primo che è stato aperto oltre 15 anni fa. Nel nostro desk è costituito da personale italiano e personale madrelingua russo e è sicuramente un fiore all'occhiello per noi, un punto di entrata grazie alle conoscenze sia istituzionali sia del mercato sia dei buyer esteri. È una soluzione win-win sia per le aziende italiane sia per le aziende russe perché abbattendo abbatte quelle che sono le barriere linguistiche che possono nascere sul territorio. sono colleghi che hanno la capacità non solo per le aziende italiane ma anche per le aziende russe di spiegare qual è il nostro ruolo, cosa facciamo, quali sono i nostri prodotti che spesso differiscono, sono ovviamente poco conosciuti perché differenti rispetto al mercato bancario e aiutano anche le aziende russe a capire cosa possiamo fare e qual è il vantaggio che possiamo offrire. A livello di strumenti due sono i principali che mi piace citare. Il primo è il credito fornitore. Il credito fornitore non è altro che una dilazione commerciale che le imprese italiane esportatrici possono offrire ai buyer esteri. Come sapete voi oggi la competizione non è soltanto a livello di qualità del prodotto e di prezzo ma i termini e le modalità di pagamento spesso sono un fattore molto distintivo nel commercio internazionale. La possibilità di offrire delle dilazioni commerciali quindi ai buyer esteri può essere un fattore competitivo molto importante. Queste dilazioni possono essere a breve termine o spesso quando si tratta di beni di investimento anche a medio termine. SACIA interviene assicurando i rischi di credito all'impresa italiana e i rischi di controparte. Questa è una soluzione win-win per le aziende italiane e per le aziende russe perché da un lato consente all'azienda italiana di affiancare alla propria offerta commerciale è anche una soluzione di pagamento competitiva. Dall'altro la società russa può beneficiare di una dilazione commerciale a condizioni competitive preservando la propria liquidità e non intaccando le linee bancarie locali. Le nostre polizze possono essere poi cedute o volturate al mondo bancario italiano per consentire alle aziende italiane di smobilizzare il credito. Il secondo strumento è leggermente più complesso rispetto al credito fornitore, il credito acquirente. Si tratta di un vero e proprio contratto di finanziamento erogato da una banca italiana o una banca internazionale all'impresa russa per finanziare il contratto commerciale che viene stipulato tra l'azienda italiana e l'azienda russa. Anche qui SACE interviene assicurando alla banca italiana o alla banca internazionale il rischio di controparte. Anche questa è una soluzione win-win sia per l'azienda italiana che per l'azienda russa perché consente all'azienda italiana di affiancare un pacchetto finanziario all'offerta commerciale, al buyer russo consente di diversificare le fonti di finanziamento, accedere a condizioni di finanziamento competitive, spesso ottenere tenor durate di finanziamento particolarmente lunghe. Abbiamo mediamente durate dai 5 ai 7 anni, in alcuni settori si va anche oltre. Oltre a questi strumenti mi piace citare anche l'attività di business matching che effettuiamo. All'interno della divisione commerciale di SACE c'è un team di business promotion che da alcuni anni organizza degli eventi di business matching. Questi eventi di business matching ancora una volta sono delle soluzioni win-win sia per le soluzioni italiane, per le imprese italiane che per le imprese straniere, in questo caso russo, perché consente ai buyer esteri di poter incrementare il procurement italiano entrando a contatto con una platea maggiore di piccole e medie aziende italiane che possono fornire prodotti strategici per il buyer russo. Alle imprese italiane questo prodotto è strategico perché consente di avere un canale di accesso privilegiato e dei canali anche di accreditamento nell'ambito delle vendor list privilegiate con i buyer russi. Quindi per concludere, l'invito che vi facciamo è quello soprattutto di entrare in contatto con noi, entrare in contatto con noi in Italia, entrare in contatto con noi in Russia. È un invito che faccio sia alle aziende italiane sia alle aziende russe per poter valutare insieme le operazioni, per poter conoscere meglio ciò che possiamo fare a supporto del vostro business internazionale e per poter trasformare delle operazioni in opportunità e crearne anche nuove. vi ringrazio tantissimo. Noi ringraziamo lei anche per la precisione e la verbo. Grazie. Grazie davvero. Eh abbiamo parlato eh di Sace, parliamo anche di Simest, un altro grande e famoso strumento italiano per l'internazionalizzazione. Carlo De Simone è il responsabile Indirect Channels di Simest. Buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno e diciamo innanzitutto grazie per l'invito e per questa opportunità. Eh mi soffermerò più che altro su quello che è il focus della giornata, quindi quello che è il nostro rapporto con il paese russi è in affiancamento alle aziende italiane. Quello che Simest eh è come realtà all'interno del gruppo Cassa Depositi e Prestiti è insieme diciamo al gruppo eh con lei che affianca le soprattutto le piccole e medie imprese nella fase di sviluppo sui mercati esteri. Quindi in qualunque tipologia di processo di internazionalizzazione il nostro ruolo è quello di poter mettere a disposizione degli strumenti finanziari utili ai fini dei processi di internazionalizzazione che possono essere tanto commerciali e tanto prodotti. nello specifico eh il nostro ruolo è soprattutto quello di poter dare delle soluzioni finanziarie che vanno a complementare quello che è anche il ruolo di eh Sace. Quindi come avete visto nell'ambito del diciamo dell'intervento del collega che mi ha preceduto avete visto che la diciamo il ventaglio di opportunità di eh strumenti finanziari è abbastanza ampio. Qual è il ruolo che Simest svolge ulteriore? Noi da un lato siamo dei gestori di fondi pubblici con finanza agevolata che mettiamo a disposizione eh nei confronti delle aziende italiane soprattutto per quanto concerne l'aspetto commerciale. Su questa tipologia di attività considerate che solamente nell'ultimo triennio abbiamo affiancato più o meno circa duecento eh tipologie di eh progetti di internazionalizzazione sul mercato russo per un ammontare di circa undici milioni. Questa tipologia eh di operatività va tanto da l'insediamento sul mercato con strutture commerciali oppure attraverso la partecipazione a fiere e mostre che è probabilmente eh il canale eh di maggior interesse soprattutto per la piccola e media impresa che vuole iniziare a frequentare quel mercato ma il nostro intento è quello di arrivare alla fase successiva cioè la fase in cui l'azienda italiana si vuole andare ad insediare su quel mercato che è poi probabilmente eh l'interesse reciproco perché nel momento in cui mi vado ad insediare con una struttura commerciale inizio anche a stringere dei rapporti che possono eventualmente portarmi a effettuare il passaggio successivo che è quello produttivo. Considerate che questa tipologia di approccio l'abbiamo strutturata in questi anni soprattutto con alcuni partner. Ad oggi abbiamo nuove partecipazioni in portafoglio fra le oltre duecento che abbiamo sparse in tutto il mondo in Russia per un ammontare anche in questo caso di eh poco più di dieci milioni. Parliamo di piccole tipologie di eh diciamo di affiancamenti ma negli ultimi diciamo le ultime due operazioni che abbiamo realizzato nel paese erano in eh affiancamento a investimenti molto importanti e strategici per il nostro paese. Nello specifico parliamo di affiancamento per esempio al gruppo Anas in cui eh Anas è stata coinvolta per la gestione del di circa eh duecentoventi chilometri della M4 Don quindi quella tratto autostradale che parte da Mosca e arriva sul eh Mar Nero in quell'ambito abbiamo affiancato Anas per quanto concerne una sorta di gestione importante di un tratto di stradale abbastanza importante. In questo caso il nostro ruolo è quello di affiancare l'impresa nel momento in cui va a fare investimenti strategici. È normale e capite da soli che questa tipologia di affiancamento cioè quando diventiamo un partner finanziario nei confronti delle aziende italiane lo facciamo su progetti strategici ma lo facciamo anche nei confronti di piccole e medie imprese. È normale la tipologia di eh rapporto in quel caso è completamente diverso. Valutiamo da un lato la bontà del progetto e dall'altro anche l'eventuale eh valutazione economico finanziaria del soggetto italiano con il quale poi andremo ad effettuare delle giorni in questo caso e soprattutto sul mercato russo è importantissimo avere anche un eventuale partner locale motivo per cui in questo caso sicuramente il tema del giorno è quello di poter andare a stringere relazioni quanto più possibile con chi è già sul posto. Ulteriore linea di attività ed è la terza con la quale Simest può entrare eventualmente in affiancamento alle aziende italiane ed è quella sulla quale probabilmente c'è un maggior eh lavoro da fare è quella dell'eventuale strumento finanziario di contributo in conto interessi che Simest può concedere a valere su contratti di fornitura di beni di investimento. Quindi parliamo di macchinari e impianti. In questo caso in affiancamento anche all'eventuale copertura assicurativa che Sace può concedere eventualmente su contratti di fornitura Simest invece può fornire un eventuale contributo in conto interessi tanto su operazioni di credito fornitore e soprattutto in sinergia con il sistema bancario possiamo montare operazioni che consentono all'azienda italiana di dare e fornire non solo know-how italiano ma anche la possibilità di fornire una sorta di pacchetto finanziario competitivo e all'altezza dei tedeschi o francesi di turbo. Questo è secondo me il messaggio che vorremmo lasciare oggi cioè la disponibilità da parte nostra di valutare insieme alle aziende eventuali pacchetti finanziari o strategici da montare insieme alle aziende da un lato al sistema bancario che affianca le imprese sia dall'Italia e soprattutto in loco sappiamo perfettamente che il sistema bancario italiano è presente in maniera abbastanza importante su questo paese ed è motivo per cui da parte nostra siamo assolutamente a disposizione di valutare insieme a tutte quante le controparti pacchetti finanziari da poter mettere in relazione con le controparti russe e soprattutto in relazione a quelle che possono essere migliori sviluppi commerciali. Io mi fermo qui ma assolutamente a disposizione per approfondire. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei anche per essere stato molto pratico, molto diretto, molto pratico e a proposito di strumenti pratici chiedo ad Alessandro Minon che è il presidente di Finest SPA di raggiungerci. Finest è la società finanziaria per l'internazionalizzazione delle imprese del nord-est italiano. Sicuramente il nord-est italiano insomma è noto per essere pragmatico. Grazie a tutti. È per me un onore essere qui. Ho ascoltato con piacere tutti gli interventi. È sempre molto interessante vedere come al di là degli aspetti di mercato vi sia una naturale propensione e facilitazione nella collaborazione fra gli italiani e i russi per motivi che forse nemmeno comprendiamo ma c'è un naturale amicizia, un naturale rispetto, un naturale modo di comprendersi che comunque sicuramente facilita anche poi gli aspetti di business. Sono Alessandro Minon, presidente di Finest, società di diritto singolare che nasce con la legge 19 del 1991 a valle di eventi geopolitici molto importanti che hanno cambiato la storia del nostro continente. Il legislatore italiano vuole vedere una funzione di internazionalizzazione per le società, per i territori più a est dell'Italia, le regioni Friuli Venezia Giulia Veneto e Trentino Alto Adige sul Tirol vuole una funzione di potenziamento dell'economia per queste regioni più vicine a quella che era l'Europa dell'est, i Balcani, i paesi che ora sono della federazione russa, i paesi CSI e vuole al contempo anche fare una funzione ponte di avvicinamento. Credo che questo sia stato effettivamente ottenuto operando a mercato. La nostra legge dice che Finest deve operare a mercato. Molte delle attività che noi facciamo sono simili a quelle che il collega di Simest ha evidenziato. La differenza è che Finest è una società che opera a mercato più che fornire degli strumenti che poi vedremo è una società che diventa socio dell'imprenditore. È una società che lavora strettamente a fianco dell'imprenditore che offre tutto un ventaglio di possibilità di advisor internazionale che mette a disposizione decenni di relazioni, di rapporti sul posto, anche di rapporti con altre società finanziate e riesce ad accompagnarlo mitigando il rischio e agendo d'acceleratore nello sviluppo delle sue attività commerciali. Vediamo ora brevemente i nostri strumenti core e le altre attività svolte. Gli strumenti principali core, quelli dalla nascita, sono equity financing. Finest diventa socio della società italiana con partenza, con una sede nelle regioni del Triveneto. italiano, di norma con una quota di capitale fino al 25% e in casi particolari extraue con i fondi di venture capital fino al 49%. Una volta che è diventata socia di questa società estera, sviluppandone il percorso, può partecipare anche come finanziamento soci, presente nel consiglio di amministrazione e in molti casi e comunque sempre presente nella gestione dell'azienda. Come strumento innovativo anche a a valle di tutte le criticità del periodo covid per accorciare le catene, abbiamo la possibilità di partecipare a presti obbligazionari delle regioni del Triveneto, delle aziende delle regioni del Triveneto, sempre allo scopo di sviluppare dei progetti internazionali. Il progetto normalmente ha una durata di otto anni, a seguito dei quali c'è un disinvestimento, un uscito, un riacquisto delle quote da parte dell'imprenditore, sempre con la possibilità di sviluppare dei progetti successivi. Finest è anche esecutore, per conto delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, di alcuni progetti che chiaramente vanno sempre in questa direzione, sempre rivolti all'internazionalizzazione. Per esempio il progetto Sprint FVG, lo sportello per l'internazionalizzazione della regione Friuli Venezia Giulia, per il quale abbiamo anche l'attività Antenna Mosca, è che è volto a supportare l'internazionalizzazione delle aziende Friuli Venezia Giulia, con delle attività che definisco anche off-the-shelf, quindi al di là delle attività che sono descritte, anche con l'attività chiamaci e dici cosa ti serve e cerchiamo di aiutarti a risolvere il problema direttamente o indirettamente. C'è un altro settore molto importante che parte dallo Sprint e successivamente si concretizza con l'adesione del Veneto nel progetto Sistema Nord-Est. Il Sistema Nord-Est è un progetto che coinvolge le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, a cui ha già annunciato la futura adesione alla provincia autonoma di Trento, nel quale l'obiettivo è per l'appunto di fare il sistema, di coniugare le maggiori efficienze, di mettere a disposizione la best practice, di studiare insieme e definire quali sono le strategie future per parlare anche con una voce univoca e portare i migliori fattori a fattore comune per raggiungere la massa critica e l'efficienza. Un ultimo particolare, in molti paesi, e la Russia è uno dei paesi per noi più importanti, abbiamo generato 330 milioni di investimenti indotti con 33 milioni di investimenti diretti da Finest in 47 operazioni. Finest è soggetto fondatore della rete d'impresa Bridge to Russia, è stata menzionata prima la presenza, ai tempi del Presidente del Consiglio, Enrico Letta Trieste, del Presidente della Federazione Russia, Vladimir Putin, dall'occasione è stata firmata la rete d'impresa Bridge to Russia, con la quale possiamo, in collaborazione con altri soggetti, supportare ancora maggiormente le imprese. Quello che è importante però per noi è la territorialità, noi operiamo solo su tre regioni, ma le conosciamo molto molto bene, sono regioni che hanno delle attitudini comuni dal punto di vista imprenditoriale, a cui possiamo dar ben risposta, e i nostri paesi target sono stati ampliati dal 2016, comprendendo non solo quelli dell'Europa dell'Est, dell'Europa centrale, dei paesi baltici, dei Balcani, della Russia, dei paesi CSI, ma anche tutti i paesi bagnati dal mar Mediterraneo e l'Austria, quindi anche inclusi paesi europei come la Francia e la Spagna. Vi ringrazio e noi siamo a vostra disposizione, a disposizione degli imprenditori per supportarli in una modalità win-win. Finest è partner e socio a termine, perché il nostro essere socio dura al massimo otto anni, ma quello che c'è da dire è chiaramente, avendo un prevalente interesse pubblico per le nostre genti, e che noi fino all'ottavo anno meno un giorno, siamo dei soci come se lo fossimo per i prossimi vent'anni. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie. C'è stata una spesa molto importante, che è quella della conoscenza delle regioni, direi Presidente, sapere chi siamo e anche dove stiamo andando, e cosa c'è interessante. Anton Moskalenkova è il direttore dell'ufficio relazioni internazionali di ASI, che sta per Agenzia for Strategic Initiatives, quindi siamo dall'autofederazione russa, e sentiamo appunto anche dal loro punto quali sono gli strumenti possibili. a lei, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, Presidente, rani, uvajate i membri del palazzo, prima di tutto, voglio dire, che per il nostro agente è una grande честь e ringrazio a Vincenzo, дорогa, con il fatto che questa conferenza, questa conferenza è in Milano oggi. abbiamo molti internazionali, più di 50 per tutta all'inizio, ma l'Italo-Rosia Pallata è stata la prima partita, che rinnovi la attività, che è stato invitato a tutti i nostri internazionali. Abbiamo davvero uno dei centri di polisimaking in Russia, il nostro agente è il progetto dell'office Presidente della Repubblica, il nostro agente è il nostro agente, il nostro agente è il presidente Putin. E noi facciamo molto attivano internazionalità, guardiamo in nostra attività, come possiamo pomogli innozionali, 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 innesi, che arrivano in Russia. E qui voglio absolutely поддержare tese Vincenzo e anche la parola Tarracchana, che Russia non è finita nella regione di Moscavica di autonomi. Grazie a tutti. 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 a business, in particolare, a surrubesimo. Non c'è nessun problema. E, a fine, voglio raccontare, che abbiamo avuto l'attività i nostri russi, i nostri russi, in Italia. Non ci sono due mesi a qui, in iugno, con l'idea, questo è un'obiettura di un'obiettura, e per il nostro agente, abbiamo creato un'emoriale di dosso in giovane Nouvea di Liguria, dove c'è stato un'attività di Prinovi, e qui in Italia è stato intituto il Suvoro Foundation, il suo lavoro, che sarà un'attività di sviluppo rossi e italiani proiecti in sfera culturale e della nostra cultura culturale. Poi, ci sono stati molto in grado, non solo in culturale, ma anche in la cultura, ma anche in business, e sicuramente siamo sicuramente, che Covid e le altre pandemiasi, perché siamo russi e italiani, e le altre pandemiasi vengono molte difficoltà in nostra vita, ma hanno avvicinato tutte le cose. Grazie. Grazie. Mentre chiedo al dottor Fabio De Rosa di avvicinarsi al palco, responsabile estero e trade finance di Banco BPM, Presidente, so che voleva un commento da fare su questo ultimo intervento. Io mi permetto di ringraziare in modo particolare l'Agenzia per gli investimenti strategici. Il dottor Moscarenco e la Presidente Ciupscera sono dei partner a lungo termine, e non di quei partner che sono solo quando le cose vanno bene, ma anche quando le cose vanno male. ragione per cui personalmente ne sono testimone e condivido con voi l'intervento che è stato fatto per problematiche relative a una, in particolare, legal entity, che era stata messa addirittura in fase di liquidazione, e che è stata in extremis salvata grazie all'intervento dell'Agenzia per gli investimenti strategici. Ecco, quindi la relazione con l'Asi è una relazione a lungo termine, che è oggettivamente lì anche quando la situazione è davvero drammatica, ragione per cui la Camera di Commercio ringrazia in modo particolare l'Asi per questo caso e per tutte le altre cose che sviluppiamo insieme. Grazie ancora. Diceva prima la sorgerosa delle sinergie con il sistema bancario senza il quale si fa poco. Sì, grazie, grazie a lei e al presidente Trani dell'invito. Sono abbastanza sicuro che parecchi si saranno meravigliati nel vedere il nome di Banco BPM associato come sponsor principale di questo evento. La verità è che la nostra banca ritiene la Camera di Commercio Italo-Russa fondamentale e imprescindibile nei rapporti di business dell'imprenditoria italiana e quella russa. In più, un po' a sorpresa, la Russia rappresenta per noi il secondo mercato per l'intermediazione come banca, quindi gli sforzi che abbiamo fatto, soprattutto negli ultimi quattro anni, hanno notevolmente pagato. Siamo stati in grado, nonostante il fatto che in Russia siano presenti altri istituti bancari italiani, di intercettare una serie di commesse e di attività da parte degli imprenditori italiani molto superiori forse a quello che il mercato si sarebbe aspettato. La banca è una banca del nord, principalmente presente in nord Italia ed è molto vicina non soltanto alle aziende che sono state citate, spesso si citano in Italia le grandi aziende, forse non completamente comprendendo invece che la gran parte delle attività in alcuni paesi viene fatta anche con il contributo importante di piccole e medie aziende. Quelle sono le aziende alle quali principalmente Banco BPM si rivolge. Abbiamo costituito una rete di oltre 60 specialisti estero sul territorio, quindi vicino alle aziende invece che centralizzarle a Milano, Verona, Bergamo, che sono le aree dove la banca è più presente e più forte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Nord-Ovest e avere creato al nostro interno una struttura che serve nei rapporti soprattutto con le banche russe ha facilitato il lavoro in moltissimi casi dei nostri imprenditori. Una delle chiavi del successo che credo noi possiamo vantare è quella di aver creato un team di export control. Sappiamo che il tema sanzionatorio, il tema antiriciclaggio, il tema delle sanzioni dirette e indirette, delle controsanzioni è qualcosa che ha reso difficile i rapporti con alcuni paesi per gli imprenditori italiani. Abbiamo quindi ritenuto di creare all'interno della nostra struttura commerciale un team di specialisti che serve a collaborare sin dalla fase preliminare del contratto, così fa con gli imprenditori che si rivolgono a noi per determinare qual è la forma migliore non solo di pagamento ma anche quindi di regolamento delle transazioni, ma anche se all'interno del contratto e all'interno delle società che lavorano all'interno della trattativa commerciale ci sia qualcosa che va notato per evitare di incorrere in problemi successivamente. Questo tipo di consulenza si è rivelato particolarmente efficace, gli imprenditori sanno che in caso di dubbi possono direttamente rivolgersi, ripeto, a un team di specialisti che non è un team diretto di compliance, ma è un team che serve la struttura commerciale, quindi fa la consulenza a quel gruppo di specialisti, che ho citato una sessantina sul territorio nazionale e anche ai clienti che ritengono di aver bisogno del supporto per capire per esempio i codici della merce che possono o non possono essere esportati, se esistono nella compagine nazionaria della controparte dei nomi che vanno controllati, se le forme di regolamento, le banche che effettuano i pagamenti, eccetera, e tutta una serie di problemi che purtroppo rendono lavorare con alcuni paesi difficile, possono essere risolti e risolti anticipatamente rispetto al momento in cui poi le soluzioni divengano più difficili. In più quello che abbiamo fatto per flusso, diciamo contrario, cioè non quello della vendita di servizi e di beni alla Federazione Russa, ma per gli investimenti nella Federazione Russa, abbiamo creato un nostro prodotto che è un prestito a sei anni con un preammortamento di 24 mesi, che consente quindi alle aziende italiane di programmare con una certa tranquillità il rimborso, dando tempo affinché gli sviluppi dell'attività in quel paese possano così dare i frutti e evitare di creare, diciamo, degli squilibri sulla cassa delle aziende. Questo si è affiancato ovviamente nell'ultimo anno ai prestiti che sono stati dati con le garanzie del governo, ma noi riteniamo che mentre le prime misure fatte dal governo sono a tempo e sono in particolare anche particolarmente costose, una volta che vengano protratte nel tempo, riteniamo che gli strumenti di finanza, diciamo, ordinaria da parte delle banche che qualche volta possano effettivamente e saranno nel futuro di nuovo assolutamente in auge. Ovviamente collaboriamo tantissimo con SACI e con SIMEST, riteniamo che questa sia una delle forme migliori di collaborazione sul territorio, per la Russia riteniamo che questo sia in particolare per questo paese una forma necessaria. Non vedo particolarmente difficile ottenere oggi, avere dei problemi nel finanziare operazioni in Russia. Anche le controparti con le quali noi abbiamo avuto occasione di lavorare in Russia, perché finanziamo anche dall'Italia direttamente controparti russe, ci sono sempre dimostrate controparti assolutamente affidabili. Quindi la nostra fiducia nel paese è oggi al massimo livello, come forse direi viene testimoniato dall'intervento che c'è stato prima, addirittura del nostro amministratore delegato Giuseppe Castagna. Ovviamente invito tutti quelli imprenditori italiani, imprenditori russi, che avessero necessità a rivolgersi a noi. Cerchiamo di non fare pubblicità da questo palco, ma soltanto di chiarire che siamo un partner, questo sì stabile, di Vincenzo Trani e del cambiamento che c'è stato nella Camera di Commercio Italo-Russa. Crediamo fermamente che questi cambiamenti siano necessari per il miglioramento dei rapporti tra i due paesi. Grazie. Grazie. Grazie davvero. Vincenzo, saliamo verso la conclusione di questo panel. Abbiamo due interventi, parliamo più specificamente di consulenze a questo punto. Roberto Corciulo, presidente di ICI & Partners, società di consulenza per l'internazionalizzazione. Buongiorno a tutti. Scusate, adesso siamo verso il pranzo, per cui cercherò di essere sintetico. Innanzitutto ringrazio Vincenzo per l'organizzazione, per avermi invitato, per l'organizzazione e di averci permesso di ritrovarci dal vivo dopo un anno e mezzo, che è una cosa già importante. Allora, velocemente, la società che rappresento, che è Udine, nordestini anche noi, come Alessandro Minon, è presente in 17 paesi con 27 uffici. Ci siamo commercialisti e avvocati, nel caso della Russia siamo presenti dal 2003 e abbiamo una struttura con circa 85 persone che impegniamo dipendenti nell'assister, nei servizi operativi sul territorio. Ci siamo specializzati nell'assister aziende italiane, cos'è detto quello che io chiamo l'ultimo miglio, e quindi offriamo tutti quelli che sono i servizi di supporto per chi va a investire nel mercato. E collaboriamo anche noi con Finest, Simest, Cace, diciamo, come supporto, diciamo, a fianco dei nostri clienti per i loro progetti. Chiudo questa parte, diciamo, di pubblicità. Vorrei fare due considerazioni, perché oggi sono state dette tante cose importanti e soprattutto credo oggi sia importante dire alcuni elementi ulteriori del perché per le aziende italiane è importante guardare il mercato russo con attenzione. Noi abbiamo un sistema Italia fatto di piccolissime aziende. Il 95% delle 4 milioni e mezza di partite IVA scritte in Camera di Commercio hanno 0,10 dipendenti. Il 4,5 ha 10,50 dipendenti. Lo 0,5 rappresenta quelle con più di 50 dipendenti. Quindi abbiamo veramente poche aziende dimensionate. Il mercato russo è un mercato importante, vicino. È un mercato, io dico, a portata dell'azienda italiana, sta nei 2.000 chilometri di raggio che un imprenditore italiano medio può affrontare. Ed è un grande mercato vicino che ci accoglie bene. È un mercato dove il doing business della Banca Mondiale dice essere al 28esimo posto della classifica. Quest'anno l'Italia è al 58esimo posto. Questa dimostrazione anche del sforzo che ha fatto la Russia che era al 113esimo posto nel 2011, dello sforzo che ha fatto la Federazione Russia per attrarre investimenti. Dimostrazione anche oggi di alcuni interventi fatti dai relatori che mi hanno preceduto. E quindi il tema poi delle sanzioni che sicuramente hanno colpito, ma personalmente credo che al paese russi abbiano fatto bene perché hanno avviato un percorso di sostituzione dell'import importante che porta agli investimenti da parte delle aziende straniere e attrazione degli investimenti sul territorio. E questo credo sia un qualcosa di importante perché io oggi vedo, guardando quello che è successo con la pandemia e soprattutto guardando la situazione geopolitica mondiale, che noi in diversi paesi dovremmo approcciare quello che sta succedendo oggi in Russia o che succede dal momento delle sanzioni, ovvero andare maggiormente a investire nei territori. Le nostre aziende, per le nostre dimensioni, non lo fanno, non possono farlo, possono fare le aziende medie, quelle più strutturate e questo è un tema di riflessione forte per il sistema politico italiano perché la presenza nei mercati aiuta l'export. Voglio ricordare che un terzo del PIL italiano è fatto, quest'anno siamo tornati a 482 miliardi, istante il dato sacio, più 100 miliardi di servizi che non vengono conteggiati dall'Istat, quindi se li dimentichiamo sempre nei numeri, vuol dire che siamo a oltre un terzo del PIL italiano fatto dall'export, che non è fatto solo di export, di vendita di beni, ma è fatto anche dalle aziende che sono andate a investire e che permettono la facilità di accesso sui mercati. Quindi questi temi per la Russia, con mercato vicino, grande, importante, con materie prime, è straimportante. Inoltre il cambio, purtroppo, chiaramente per gli amici russi non è una cosa così positiva perché passata, sappiamo bene, con le sanzioni da 40 rubli per un euro a 110, poi si è assestato e ha ogni tanto dei picchi in base al prezzo del petrolio, però questo è un momento per investire in Russia perché chiaramente l'investimento oggi costa meno ed è uno di quei momenti in cui bisogna anche approfittare. Per cui da parte mia, per quanto riguarda questo mercato, sicuramente ritengo ci siano tutti i macro fondamentali. Poi il paese, altro aspetto importante, ha solo un percorso in crescita. Il PIL della Russia al 2019 cubava circa il 70% di quello italiano. A prezzi correnti, con cambio a 40, era circa 4.400, o meglio, a cosiddetto prezzo parificato, 4.400 miliardi. Ed è un mercato che può solo che crescere. Un capitale umano importante e la transizione proprio ecologica nel ricambio delle materie prime, gas e oil, secondo me permetteranno di sfruttare meglio questo grande capitale umano che la Russia ha e che però il petrolio, come in altri paesi del mondo, diciamo è la corsa nel vendere petrolio, che diventa importante, però sacrifica l'industria di seconda, terza generazione. Quindi la Russia credo sia, come dire, nel momento ideale per l'Italia, per gli investimenti, e dobbiamo approfittare per evitare che competitor come la Cina vadano, che hanno già iniziato, perché chiaramente le sanzioni hanno portato la Russia a guardare la Cina, approfittino di questo momento e ci taglino fuori. Noi siamo la seconda manifattura d'Europa, non per niente, e dobbiamo farlo in maniera seria e la Russia è sicuramente uno dei partner giusti per questo. Grazie. Grazie. Grazie davvero. Scendiamo ancora di più nel dettaglio, nel dettaglio legale, in questo caso, con Vittorio Loi, partner di Studio Legale Pavia Ansaldo. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti, grazie alla Camera di Commercio, innanzitutto Italo-Russa. Abbiamo aderito con grande entusiasmo, devo dire, con un piccolo contributo per questa iniziativa che ha segnato, almeno per noi, la ripresa e segna, diciamo, la ripresa degli appuntamenti anche in presenza, cosa che come sottolineato da molti diciamo fa a volte la differenza. A me è l'ingratissimo compito di farvi attendere ancora pochi minuti prima della pausa, quindi sarò veramente telegrafico, lo studio Pavia Ansaldo, di cui sono socio da 25 anni, festeggia quest'anno il sessantesimo anno di attività. Di questi 60 anni, quasi la metà li abbiamo trascorsi anche in Russia. Noi siamo stati sicuramente il primo studio, diciamo, di una certa dimensione indipendente italiano a occuparci di Unione Sovietica prima e Federazione Russa poi, aprendo la nostra prima sede a Mosca nel lontano 1997. Quindi vi lascio immaginare, diciamo, l'ampia esperienza che ci portiamo sulle spalle a fianco di innumerevoli aziende italiane che abbiamo accompagnato diciamo in percorsi più o meno lunghi di loro presenza o contatto con il mercato russo, aziende provenienti da tutta la nostra penisola e operanti pressoché in tutti i settori diciamo della nostra economia. Tra questi anche un progetto che è stato citato quindi lo riprendo dal rappresentante di Sines e cioè quello di Anas Aie nel diciamo nel progetto appunto di ristrutturazione e gestione di un tratto autostradale importante in Russia. Uno spunto diciamo personale chi vi parla si è laureato nel nel 1990 a Trento con una tesi sperimentale che parlava di savmissne priatia nei paesi socialisti. La nostra bravissima moderatrice che so essere cultrice della lingua russa oltre che di materie economiche sa che ci insegna che savmissne per priatia per chi non parla russo significa sostanzialmente joint venture. Si diceva imprese miste traducendo letteralmente ma il termine diciamo internazionalmente più corretto è probabilmente joint venture. Oggi Vincenzo Trani ci ha proposto il tema del giorno da export a joint venture. Dopo 30 anni mi viene da dire siamo ancora lì. siamo ancora lì per una serie di motivi che ovviamente in pochi minuti non possiamo sintetizzare ma diciamo per lanciare anche qualche tema di riflessione e non soltanto diciamo di come posso dire di soddisfazione per quanto i nostri amici russi hanno fatto in questo in questi 30 anni la riflessione potrebbe essere si hanno fatto tante cose è veramente inimmaginabile il passaggio diciamo la fotografia di 30 anni fa e quella di oggi per chi diciamo magari non conoscesse proprio l'intero percorso però è anche vero lasciatemi dire l'ho detto mi è capestato di dirlo anche in altre occasioni istituzionali che il vero sforzo lo sforzo maggiore il legislatore russo nella modernare diciamo e diciamo e introdurre degli strumenti di di vero diciamo supporto agli investimenti dati nel paese li ha fatti negli ultimi 5-6 anni li ha fatti negli ultimi 5-6 anni perché ha dovuto fare di necessità virtù la perfect storm del che è partita nel 2014 tra sanzioni come sappiamo ahimè anche recentemente rinnovate anche in sede europea oltre che negli Stati Uniti naturalmente il drastico calo dei valori dei prodotti degli idrocarburi e ahimè diciamo la tavica difficoltà diciamo così lentezza degli amici russi a modernare la propria struttura industriale ed economica ha portato alla situazione che ben conosciamo e che quindi ha stimolato la nuova politica economica russa che dalla fine del 2014 sulla scorta di una di una legge federale ha portato all'incentivazione diciamo l'introduzione di una serie di strumenti di incentivazione che oggi a mio parere rappresentano un pacchetto davvero completo cioè conosco pochi paesi bene come come conosco la Russia ovviamente oltre all'Italia e quindi faccio fatica a fare dei paragoni ma sicuramente dal contratto speciale di investimento alle nuove iniziative di detassazione quasi totale degli investimenti in come li chiamano loro capitali sussidi regionali federali settoriali intersettoriali esiste ormai una diciamo una numero davvero notevole e talvolta anche diciamo un po' complicato di strumenti di incentivazione che sono offerti all'investitore straniero e paradossalmente però lasciatemi dire il numero di questi investimenti e talvolta anche la qualità degli investimenti è inferiore a quella che si osservava addirittura negli anni 90 piuttosto che negli anni 2000 e quindi questo fa sicuramente pensare fa pensare che tornando al titolo appunto del del convegno la joint venture possa essere uno strumento sicuramente export investimenti diretti sono due cose completamente diverse l'export fa bene alla bilancia dei pagamenti italiani ma non fa crescere il tessuto industriale russo dal punto di vista russo è chiaramente vitale attrarre tecnologia attrarre innovazione poter produrre nel paese da qui gli slogan e che sono più di slogan ovviamente sono obiettivi di politica industriale di sdirano vrassi cioè di fatto in Russia di di preferenza al prodotto industriale russo di preferenza agli soggetti russi nelle importantissime diciamo gare d'appalto lanciate a livello ovviamente pubblico quindi è chiaro che il mercato russo oggi si presidia essendo presenti strumenti di tutti i tipi a disposizione delle aziende italiane li troviamo come abbiamo sentito nei precedenti interventi sia in Italia da parte di una serie di operatori finanziari e non sia in Russia come ho appena velocemente detto la consulenza serve per districarsi in questo mondo un po' complicato grazie a tutti grazie davvero adesso presidente ci attende una triatia molto particolare comune anche quella ci fermiamo abbiamo una pausa fin qui abbiamo fatto un quadro diciamo molto largo dettagliato poi va bene interlocutore per interlocutore ma sulla federazione scendiamo dopo pranzo sulle regioni più specificamente quindi diamo a tutti appuntamento dopo grazie davvero e buon proseguimento grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. 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 italiana per quest'anno a tutti. e questo. grazie soprattutto alle performance di settori di cui parliamo anche oggi dalla dai ai prodotti in metallo, ai macchinari, ai mezzi di trasporto che tirano anche grazie alla ripartenza degli investimenti a Mosca. Per il 2022 questa crescita dovrebbe essere più contenuta, ma comunque stare sempre poco sotto il 6% l'anno, grazie al traino non solo di settori che anche in queste ore stiamo ascoltando essere trainanti come la meccanica strumentale, ma anche in settori che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno avuto un revamping sui mercati internazionali, come l'arredamento e anche come alcune produzioni dell'agroalimentare. E questo giustifica l'impegno della Camera di Commercio Italo-Russa, ad esempio nel progetto True Italian Taste, che realizziamo come a sua camera estero, che vede il coinvolgimento oltre che della Camera Italo-Russa di altre 35 Camere di Commercio italiane all'estero per un totale di 23 paesi. E con questo progetto vogliamo incrementare la conoscenza e il consumo consapevole dei prodotti alimentari cento per cento meno in Italia in tutti i paesi del mondo, Russia compresa. Su questo tema appunto dell'avvicinamento anche culturale dei due paesi, il ruolo di ponte di mediatore della Camera di Commercio Italo-Russa è essenziale. La Camera è ufficialmente riconosciuta dal governo italiano ed è un punto di riferimento, devo dirlo, parlando dall'Italia, affidabile e competente per tutti gli imprenditori interessati ad internazionalizzarsi sul mercato russo, ma anche dalla Russia all'Italia. È una camera del tutto unica del nostro panorama perché è una camera mista, ma con sede in Italia, appunto a Milano, è una sede a Mosca e proprio perché opera su due piani paralleli e iscritta ad Asso Camera Estero, che appunto è l'associazione che rappresenta tutte le 81 Camere di Commercio italiane all'estero, riconosciute appunto dal governo italiano. Noi lavoriamo come associazione proprio per promuovere i rapporti commerciali anche della rete delle Camere di Commercio presso tutte le imprese, presso tutte le istituzioni italiane e internazionali. Siamo un network molto grande, operiamo in 58 paesi e siamo un network nato da imprenditori, da professionisti, da manager italiani all'estero che vogliono operare a sostegno di altri amici, colleghi, imprenditori, ovvero quelli che desiderano avviare o rafforzare una presenza nei mercati esteri. E la loro mission è proprio quella di fornire un'assistenza personalizzata alle imprese italiane, soprattutto le imprese più piccole, di supportarle alla ricerca di nuove opportunità, soprattutto in questo momento molto particolare del nostro mercato, dove appunto a causa della pandemia le formule di internazionalizzazione classiche si sono un po' rivoluzionate e dunque siamo come Camere di Commercio impegnati oggi non solo nello scouting di opportunità di affari che nascono proprio dalla nostra conoscenza dell'inserimento, più ancora che conoscenza, nelle business community locali, in questo caso nella business community dell'Italia, degli interessi italiani a Mosca, ma oggi sempre di più con partnership imprenditoriali, con l'aiuto e l'assistenza all'insediamento all'estero nel caso della Russia, soprattutto per i robusti della presenza commerciale in questo momento nel paese. Chiudo rapidamente nel ringraziarvi di nuovo e provando a tracciare tre possibili piste di collaborazione, che sono le nuove frontiere dell'internazionalizzazione sulle quali come sistema camerale italiano e italiane all'estero siamo impegnati oggi. La prima riguarda il sostegno alle vendite all'estero, non solo nelle filiere tradizionali del Medinitari, dall'alimentare alla metallurgia si è detto, ma coinvolgendo sempre di più i settori a più alto contenuto tecnologico e anche sfruttando le enormi potenzialità dei servizi, soprattutto il mondo della creatività, della cultura, ma anche delle tecnologie ambientali, dell'economia circolare. Il secondo punto è quello dell'irrobustimento delle catene globali del valore, molto colpite dalla pandemia, nel manifatturiero in primo luogo, cercando di individuare, mettendo in contratto domanda e offerta di beni intermedi fra tutti i paesi. Terzo e ultimo punto, che è la vera frontiera dell'internazionalizzazione, investire nel digitale e nell'innovazione, come diceva chi ne ha presentato. E dunque questo per noi vuol dire rafforzare l'impegno nella tecnofinanza, sull'intelligenza artificiale e sviluppare una vera e propria rete internazionale di sostegno alle startup innovative, per aiutarli a cercare partner dall'estero, per aiutarli nel testare alleanze con centri di ricerca e fondi di investimento. Io vi fermo qui, volevo salutarvi e appunto farvi sentire la vicinanza di tutto il sistema camerale italiano, italiano all'estero e italiano in sé, e mi auguro che questo incontro davvero possa essere l'occasione per individuare nuove opportunità di collaborazione fra il sistema camerale italiano e quello russo. Vi ringrazio nuovamente per l'invito e vi auguro buon lavoro. Grazie mille. Grazie, noi ringraziamo lei per il collegamento. E proseguiamo con Confindustria Lombardia. Dario Bottattorni è il segretario generale e se ci vuole raggiungere... Eccolo, non riuscivo a individuarla nella platea. Buongiorno. Sì, 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 sì. Ha una presentazione? No, no, no. Molto rapido, più efficace del dottor Mauriello. Buongiorno, buongiorno a tutti. Naturalmente vi porto i saluti del presidente Marco Bonometti, del presidente Confindustria Lombardia che non ha potuto partecipare oggi. Eh, però come sapete è molto vicino appunto al mercato, al mercato russo. Eh, io mi sono appuntato tre tre note e un commento. Tre note rispetto a, eh, all'incontro di oggi e un commento rispetto a quello che diceva in questo momento Domenico Mauriello. Tre note, eh, innanzitutto, Confindustria Lombardia e quindi la Lombardia. Eh, Confindustria Lombardia oggi rappresenta più di tredici mila aziende all'interno di tutto quello che è il sistema Confindustriale territoriale che comprende naturalmente Milano, Monza, Bergamo, Brescia. Nel totale, Confindustria Lombardia rappresenta più di tredici mila aziende che eh equivalgono a più di settecentomila dipendenti in crescita, diversamente da quello che poi si è temuto nei mesi scorsi. In realtà, oggi la tematica non è tanto mandare via i dipendenti ma trovarne di buoni, di efficaci e di valore in Lombardia. Eh, Confindustria Lombardia oggi rappresenta un quarto del sistema Confindustriale quindi il momento in cui eh si va a parlare con Confindustria nazionale per un quarto eh fa riferimento a noi. Eh, in questo senso ovviamente la Lombardia è una prima, è la prima regione in termini di apporto eh al PIL eh nazionale, è la prima regione in termini di innovazione, è la prima regione in termini di ricerca e di sviluppo di tutte quelle che sono le innovazioni in tantissimi, in tantissimi settori. Eh, il cinquantacinque per cento delle aziende che Confindustria Lombardia rappresenta sono aziende manufatturiere, il venticinque per cento aziende metallmeccaniche, di fatto quelle che poi hanno necessità di eh di 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 definire tutta una serie di rapporti commerciali con tutti i paesi e quindi anche con la Russia. Internazionalizzazione, export. Eh, l'export naturalmente anche lo scorso anno in forme e modalità diverse è stato eh quello che ha garantito la tenuta competitiva del eh dell'economia italiana e in particolare della dell'economia lombarda. I dati li accennava anche prima dottor Mauriello, i dati già ci dicono che nel primo semestre del duemila ventuno le aziende che comunemente possiamo annoverare sotto il termine made in Italy hanno eh venduto quarantasette miliardi di euro all'estero e hanno già superato quello che eh il risultato del duemila diciannove, come dire, in qualche modo abbiamo già superato da un punto di vista quantomeno economico, purtroppo ancora non da un punto di vista eh sanitario, vedo ancora qualcuno con le mascherine, qualcuno no, eh però il duemila e venti è stato in qualche modo superato. Eh tutto bello, benissimo, abbiamo un problema. Eh è un problema è legato al fatto che le imprese italiane, anche quelle lombarde, sono imprese piccole, sono imprese eh non voglio dire microscopiche, ma eh ormai eh per definire un'ulteriore categoria si definiscono micro imprese, piccole imprese eh eh medium, quindi eh imprese di di caratura media. Ecco all'interno di quello che è il contesto lombardo il trentacinque per cento sono micro imprese, quindi imprese che hanno meno di dieci dipendenti. Eh sempre all'interno del contesto lombardo il ventisai per cento sono piccole imprese, quindi imprese che hanno meno di venti dipendenti. Questo è un problema per tantissimi problemi, in particolare un problema per quanto riguarda l'internazionalizzazione perché? Perché un'impresa che ha dieci o anche venti dipendenti non ha quella capacità, quella forza, anche quella visione per poter fare un qualcosa in più dell'export. Posso vendere tranquillamente perché magari sono a Carate Brianzo, sono a Bergamo, sono a Brescia, ma andare a creare un proprio ufficio commerciale, una propria impresa, una propria fabbrica in giro per il mondo è molto è molto complesso. Molto spesso queste sono naturalmente imprese di eh di di stampo familiare, di natura familiare, molto spesso ci si concentra forse più sul tema del passaggio generazionale e forse meno sul tema del passaggio dimensionale. Bisogna aiutare queste imprese a crescere. Poi anche a far aiutarle a far passare da una da una generazione a un'altra. Ma se si dà uno scope dimensionale credo che questo possa essere molto utile. La soluzione la soluzione è un po' anche già nel come dire nel titolo del programma di oggi. Eh un primo un primo step oltre alla semplice tra virgolette che poi non è mai semplice però semplice commercializzazione in termini di export è la definizione di una serie di joint venture. E da questo punto di vista la Russia e questo è il mio terzo punto la Russia è sempre stata e continua a essere e continuerà a essere un partner molto ambito, molto preferito da tutte quelle che sono le imprese lombarde. Noi ogni due anni eh realizziamo una ricerca sulla internazionalizzazione. L'ultimo l'abbiamo presentata a giugno di quest'anno e da questa ricerca emerge come la Russia è il secondo paese eh per di maggiore interesse per quel per i prossimi a tre anni per tutte le imprese lombarde. In particolare anche in questo senso lo citava prima il dottor Mauriello per quello che è il settore dei metalli ma anche dei eh per i macchinari e andando in profondità nelle province le province che sono più interessate a lavorare con la Russia per i prossimi tre anni sono ovviamente Milano eh poi bisogna dirlo perché siamo a Milano non peraltro Bergamo, Varese e Como. Quindi da questo punto di vista ci sono moltissime imprese che hanno voglia di lavorare o di tornare a lavorare con eh con la Russia e il eh il tema del della 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 del creare quindi eh quelle che sono delle joint venture è di altissimo interesse da parte di tutte quelle che sono le imprese lombarde. A questo si aggiunge anche un'ottima attività fatta invece dal governo russo in termini di eh quelle che sono le le ZES quindi le zone economico ehm speciale e anche tutti quelli che sono i programmi sito. Quindi in termini di attrazione da parte da parte del governo russo molto è stato fatto. Chiudo eh per riconfermare quella che è naturalmente la nostra disponibilità come Confindustria Lombardia a immaginare anche una serie di eh di di attività formative e informative ma anche di viaggio presso determinate zone che possono essere di interesse per molte imprese andando eventualmente anche a dettagliare e quindi a creare dei gruppi per portare imprenditori di Bergamo, Varese, Como in determinate aree. Eh rispetto a quello che diceva poi chiudo quello che eh diceva il dottor Mauriello eh evidentemente eh sottolineiamo una serie di elementi che oggi eh sono di grande interesse transizione ecologica, transizione digitale, eccetera. Ecco io non vorrei non vorrei perdere la eh componente manifatturiera dell'industria lombarda. Alla fine come vi dicevo prima il cinquantacinque per cento delle aziende che fanno parte di Confindustria Lombardia sono aziende manifatturiere quindi sono aziende ancora che eh hanno il capostipite evidentemente anche le nuove generazioni che quando ti portano a vedere la fabbrica ti fanno vedere la fabbrica non ti portano a vedere il computer non ti portano a vedere sì poi magari un po eh torto collo ti fanno vedere anche la stampante in 3D però alla fine stiamo parlando di fabbriche. Ecco da questo punto di vista se c'è la possibilità di creare delle June Venture, creare delle opportunità di sviluppo eh da qui verso la Russia o dalla Russia verso di qua per far crescere tutte le imprese, tutte le imprese lombarde credo che questo sia un po' l'obiettivo eh del nostro paese ma in particolare di quello che è la la ragione di essere di Confindustria Lombardia. Chiudo rinnovando i miei ringraziamenti a tutti quanti e appunto a questo punto dimostrando e rinnovando la disponibilità da parte di Confindustria Lombardia a immaginare qualcosa anche perché ci sono io credo due eh due come dire due treni. Uno che è un po' più lento per assurdo che è tutto il tema della transizione ecologica transizione digitale che ha uno scopo un po' più lungo. C'è invece un treno un treno che va velocissimo che è la ripresa economica che sta riprendendo in questo momento eh abbiamo visto la settimana scorsa il salone del mobile tutto quello che si è portato dietro il salone del mobile soltanto tre cinque sei mesi fa era assolutamente inimmaginabile e insperato. Ecco questa ripresa economica è un treno che in qualche modo sta già partendo molto molto più veloce di quello che è un treno sul quale bisogna comunque lavorare transizione ecologica transizione digitale sostenibilità tutto quello che vogliamo però nel frattempo c'è un treno che è la manifattura che va avanti per cui da questo punto di vista credo che si possono portare avanti una serie due come dire due due posti una cucetta sul treno un po' più lento della transizione ecologica digitale quant'altro invece un posto in piedi su quello che è il treno della della ripresa in particolare della manifattura e di tutto quello che è il settore del metallo meccanico. Ringrazio. Io la ringrazio. Passo passo la parola a non non so chi. Mi piacuta molto l'immagine dell'imprenditore che ti porta a vedere la fabbrica. Devi vedere no? Ma sì anche perché io ricordo eh che abbiamo organizzato una visita ehm in eh in Silicon Valley a un certo punto c'era questo imprenditore devo dire non di primo di primo pelo che mi si avvicina e mi dice ma poi ci portano a vedere la fabbrica. Il problema è che eravamo noi nel campus di Google e io ho detto vedi questa è la fabbrica. Esatto non c'è niente da toccare. Esatto. Da questo punto di vista dobbiamo poi farvi toccare qualcosa e far vedere qualcosa di molto operativo. Grazie davvero. Grazie davvero. Ha messo un po' il dito nella piaga se vogliamo anche nella opportunità ricordandoci il dottor Voltattorni delle PMI italiane in generale Lombarda in particolare e eh questo ci consente così il il passaggio verso una regione che ha particolari e storici legami con l'Italia che è quella di Lipez ehm Anatoly Golzov è il presidente della Camera di Commercio e Industria di Lipez che tra l'altro io qua ho trovato una sua intervista se lui vuole poi raggiungerci e una sua intervista del febbraio duemila e ventuno un investitore dovrebbe essere trattato con rispetto e amore e quindi se si vuole accomodare prego non so se mi ricordo che aveva una presentazione con sé. Ah la fa da lì? Ok. Grazie a tutti. Grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, che vi invitano a la sede di Italo-Rosso Torello e Primavera, perché sempre, quando arriviamo in Italia, soprattutto nelle delle встречe, noi dobbiamo anche attraverso, ma le delle delle sede, dalle delle sede, in questo caso, in questo caso, la possibilità di ottenere l'idea e la sua vita in vita. E la Limpiazca è una delle delle sede delle sede, che accumulava il processo, il trattante, il trattante, il trattante, il trattante, il trattante, il trattante, in questo caso, in questo caso, la Limpiazca è l'adaptata adattata a l'Italianco business, questo ha detto non ho, ma alcuni premeri, predessanti del trattante dell'Italia, che vivono in Italia. La Limpiazca è una situazione, la Limpiazca è una situazione di 400 km giugno di Mosca, una grande territoria, 26 000 km2, in questo caso, in questo caso, la Limpiazca è una situazione di ottenere il trattante. La Limpiazca è una situazione di ottenere il trattante, in questo caso, la Limpiazca è una situazione di ottenere il trattante, il trattante, in questo caso, il trattante, che funziona alla Limpiazca è una situazione di ottenere il trattante, e in cooperazione con loro in particolare. 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 e in cooperazione. e in cooperazione con loro in particolare. e in cooperazione. 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 e che открывano la nuova parte. Ma soprattutto in cui, quando ci sono invitati a un'Italia, le fiori sempre iniziamo. Vi sono molto piaciuto il forum, il cui proviene da Verona. Io in questi fiori sono i cori 10 anni. In questo caso, molto importante, quando, ad esempio, è una cosa plena della forse, l'altra cosa, è un'annuale, qui sono i ragazzati, e poi è stato l'acquanto. Quindi, secondo me, almeno si è arrivato a fare nel nostro territorio, E il secondo momento, come максимум, poi e lavorare. che voi stanno производiti, è molto caro per il negozio. Questo è quello che parla del negozio. Ma anche persone interessanti, ma anche che lavoriamo, ma anche se stagione e culturale. E sempre pianto, quando c'è un negozio, a un giorno da mattina lavoriamo, ma poi bisogna vittorio e отдыхare. E noi già con la nostra italiana già prepariamo i nostri amici. E in questo caso, Vittorio Terimbiini nasce molto seriously ci sono queste cose. Io sono già professionale, la mia città come specialista. Perché? Perché mi sono iniziato. Ma in questo caso, sempre la azimina è in mellocchi. E questi tue ricche, i che noi проводiamo, è un'obiettione. Questo sono gli italiani e gli italiani. E ci sono le fotografie, che è un'altro. E voi venite a noi, e voi un'ogli di nuovo. E noi capiti aiutati, italiani riusciti, noi capiti riusciti, in questo caso, la mia città, un'obiettione, un'obiettione. Ci piaccia, che c'è il nostro dramatico teatro un'altro che in America di Tostoro Banca Intesa è un'obiettione. C'è un'obiettione. Perché? Perché? Perché abbiamo avuto una città, perché abbiamo avuto delle cose, abbiamo avuto da dare dare. E in questo caso, noi sempre chiediamo, chiediamo вас in Limpiazca, con un caravai, se potete, questo non è postavozionale, questo è un filmo, è un filmo, quando all'Italianca delegazione viene, c'è musica, il ruolo, il хлеб, il sole e, ovviamente, molti del, che dà l'opportunità con l'opportunità, con l'opportunità, con l'opportunità, con l'opportunità, con l'opportunità, con l'opportunità, con l'opportunità. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Camera di Commercio di Bologna, buongiorno, buon pomeriggio. Non la sentiamo, forse manca... Pronto? Mi sentite bene? Adesso sì. Molto bene, buon pomeriggio a tutti. È un piacere riuscire a partecipare a questo convegno, visto che ci sono state anche un po' di problematiche di collegamento. Io, purtroppo, mi sono collegato solo ed esclusivamente in questo momento e non ho potuto ascoltare, quindi, gli interventi precedenti. Con molto piacere mi collego al concetto della pasta, quel simpatico signore gentilissimo che stava parlando prima e parlava di cucinare la pasta, parlare di cucinare la pasta a noi bolognesi, è come invitare un'occa a bere. Quindi sarebbe molto piacevole poter parlare anche di questi argomenti. Proviamo invece adesso a dare un'indicazione del nostro territorio e delle capacità e della vocazione che il nostro territorio ha per quello che riguarda l'export. Penso che sia abbastanza importante e proverò anche a darvi qualche numero relativamente alle attività di export che abbiamo già con il paese della Russia. Il nostro territorio, ovviamente, è specializzato ad esportare beni ad alto valore aggiunto, nei mercati un po' più competitivi di tutto il mondo. Facciamo principalmente prodotti unici, puntiamo sulla velocità e su misura. Uno su quattro, scusi, tre su quattro dei prodotti made in bo che varcano la frontiera sono ad alto contenuto tecnologico. Ovviamente, immediatamente, chi parla di Bologna pensa alla Motor Valley, come dire, concentrati in pochi chilometri da Bologna. Tanto per citare, si può parlare dalla Ferrari, alla Lamborghini, alla Maserati, alla Ducati. Quindi già queste imprese e le imprese a filiera che sono sottocollegate fino ad arrivare agli artigiani e alle piccole e medie imprese che collaborano con questo genere di aziende hanno sviluppato, hanno sviluppato un territorio molto ricco e molto capace nella produzione di prodotti ad alto valore aggiunto. Abbiamo visto nel periodo post-pandemia che c'è stata una grande accelerazione nella ripartenza. Le nostre aziende manufatturiere sono già, in alcuni settori, riuscite a ritornare ai numeri pre-COVE. e quindi tutto il settore è cresciuto fortemente e ovviamente guidato dal settore meccanico, che è quello che ha performato maggiormente. Per dare un'indicazione, il territorio bolognese esporta già verso la Russia mediamente. Adesso gli ultimi anni, col fatto del Covid, sono anni che possono dare delle medie molto sballate, ma possiamo dire che tra i 15 e i 20 milioni di euro sono i prodotti che escono da made in Bologna e vanno già verso il mercato lusso. È chiaro che già c'è questo genere di export, ma la Camera di Commercio ha il dovere, ha il compito come casa delle imprese di continuare a sviluppare, di continuare a promuovere le potenzialità che ci sono specialmente per quello che riguarda l'internazionalizzazione legata alla digitalizzazione, che sono gli argomenti più importanti anche degli investimenti futuri che nel piano del recovery dovranno poi essere messi a terra nel nostro territorio. Altro dato abbastanza interessante, giusto per darvi qualche pillola che possa essere indicativa del nostro tessuto legato alla Camera di Commercio di Bologna, sono i documenti per l'export. Nel senso che facendo riferimento ai certificati di origine, nel 2020 Bologna ha emesso 20.000 certificati di origine, di cui 890 verso la Russia, il 4,4%. Il 2020 è stato un anno, sappiamo tutti quante problematiche, quindi non è un anno da tenere come riferimento. Nel primo semestre del 2021, quindi solo in metà anno dell'anno nuovo, che dovrebbe segnalare il percorso verso la ripresa, sono stati richiesti 11.000 certificati di origine, quindi rispetto ai 20.000 circa la metà, però verso la Russia 975, quindi quasi il 9%. Questo è testimonia, una buona ripresa dei flussi di esportazione extra UE, come diciamo noi, e specialmente relazioni, come dire, un incremento delle relazioni commerciali verso la Russia. Dalla nostra analisi possiamo dire che probabilmente non si è ancora espresso neanche ai livelli massimi, come dire, le potenzialità date da questo genere di mercato, che probabilmente precedentemente nell'inconvegno che c'è stato, saranno state sicuramente molto ben presentate. Chiaro che le attività della Camera di Commercio riguardano sempre la formazione, la preparazione, le indicazioni, la, come dire, la spinta a preparare le nostre aziende, specialmente le PML, le piccole e medie aziende, a essere strutturate ed imparare a sfruttare al meglio le potenzialità concesse dall'e-commerce, dalla digitalizzazione e dalle possibilità, quindi, che potrà dare un mercato come quello dell'export che deve essere e continuerà a essere incrementato. Attività che la Camera di Commercio svolge, non so, per esempio, in modo individuale, direttamente per determinate aziende, nel senso che nell'ambito di progetti condivisi con dei consulenti dell'export, vengono fatti dei check-up diretti, in cui il consulente analizza, come dire, le capacità, la struttura dell'impresa, se è pronta per essere internazionalizzata, quali suggerimenti gli si possono dare per migliorare questo genere di scelte. E poi vengono svolti, ovviamente, sempre sotto legge della Camera di Commercio, delle iniziative collettive. Ecco, qui porterei volentieri un esempio, la storia che abbiamo avuto molto interessante qui a Bologna, purtroppo dobbiamo sempre fare riferimento in quanto si tratta di un contatto in presenza prima del Covid. Nel 2018 il nostro polo della moda del territorio bolognese è il Center Gross, è una realtà di commercio all'ingrosso e di produzione di tutta la gamma di prodotti per la moda. Ha ospitato dei buyers russi, che sono stati appunto selezionati dalla Camera di Commercio Italo-Russa, di cui oggi siamo ospiti, e ha aperto nuove opportunità dalle imprese bolognesi che magari fino a quel momento non avevano tralasciato, non avevano capito l'importanza che poteva esserci da questo genere di mercato. Questa collaborazione si è rivelata particolarmente efficace, abbiamo apprezzato la qualità e la professionalità dell'appoggio e dell'organizzazione della Camera di Commercio Italo-Russa. Ultima cosa, ultima pillola che posso darvi, il fatto che sempre Camera di Commercio insieme alla Regione Emilia-Romagna stanzia dei contributi a fondo perduto per sostenere appunto ed accrescere le competenze delle imprese per quello che riguarda l'interna organizzazione e diciamo che per l'anno in corso per le imprese bolognesi è stato stanziato un importo di circa 220 mila euro. Quindi direi che alla luce di queste considerazioni generali, magari se c'è qualcuno che ha bisogno o vuole maggiori chiarimenti possiamo mandare poi documentazione tramite la Camera per mail o attivare contatti relativi a ogni tipo di discorso. Io personalmente sono consigliere della Camera di Commercio e colgo l'occasione per portare i saluti del nostro Presidente, della nostra Giunta e quindi essendo noi, come ci definiamo, la casa delle imprese, di tutte le imprese bolognesi di portare i saluti a tutti i presenti e quindi di sperare e di auspicare che con la collaborazione della Camera di Commercio Italo-Russa ci siano ancora maggiori possibilità di relazioni commerciali tra il nostro territorio e questo Paese. Vi ringrazio molto e sono disponibile per qualunque tipo di altra domanda. Siamo noi che la ringraziamo per questo collegamento. La ringraziamo e a questo punto cediamo la parola a Ivan Razuvayev che è il Presidente della Camera di Commercio e Industria di Nizhny Novgorod. Completiamo così il nostro giro tra regioni e città. Grazie a tutti. 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 distese russe io vi ringrazio vi prego di riaccomodarvi noi proseguiamo vero presidente questo è il momento di passare la parola alle imprese che sono qui rappresentate quindi facciamo un cambio di di relatori qualcuno scende qualcuno salirà ho raccolto molti spunti interessanti da da queste conversazioni sia con i nostri relatori arrivati dalla russia sia con i nostri italiani ho visto molto entusiasmo e questo mi sembra molto bello mi sembra che sia una ripresa anche nello spirito che c'è un po' mancata nell'ultimo periodo allora la parola alle imprese mi sgranchisco le gambe se mi consentite un attimo la parola alle imprese abbiamo varie imprese italiane e comunque italiane in russia che hanno da portare la loro esperienza sicuramente una che tutta italia ha imparato a conoscere negli ultimi mesi è la dn è antonio francesco dinaro è il presidente di adn e sarà con noi l'azienda farmaceutica l'abbiamo conosciuta per tutta la vicenda sputnik ma non di solo quello si occupa e quindi le chiediamo di salire sul palco ha bisogno di dotazioni no vai a lei buongiorno a tutti buon pomeriggio grazie dottor trani per l'invito penso che sia dn una testimonianza tangibile di quanto la associazione la cama di commercio russa ha fatto perché è intervenuta nella selezione dell'azienda nella presentazione poi alla fondo sovrano russo e poi logicamente ci ha lasciato per vedere se i requisiti che cercava il fondo sovrano russo potevano essere soddisfatti e così è stato adn è stata selezionata perché produce la sostanza cioè produce vaccino non è che lo infialetta solo tutti per tanto tempo si è parlato in ita io produco il vaccino io produco il vaccino tu le infialetti ed è una cosa ma chi lo produce allora produce adn ma dn è stata selezionata perché ha un expertise un know how per produrre materiali biologici dalla ricerca fino alla commercializzazione ea tutto in house quindi a ricerca al sistema di controllo a lo sviluppo delle cellule a purificazione e a il feeling cioè il prodotto finale tutto questo coperto da un sistema gmp di controllo di qualità e di un sistema regolatorio azienda è un'azienda farmaceutica svizzera io sono il proprietario l'unico proprietario fondatore dn è una società che ha portato già commercio alcuni farmaci per le malattie rare in particolar modo nei trapianti di midollo io circa 90 brevetti a mio nome e tre prodotti o quattro prodotti presi dalla ricerca portati in commercio un'azienda che è profittevole da quando è nata per 16 anni consecutivi e quindi si è fatta anche carico di supportare tutto il tech transfer a proprie spese perché il fondo sovrano russo pagherà quando si rilasceranno i lotti non ha pagato il tech transfer quindi anche questo fu in mente altre aziende non potevano permetterselo quindi non solo è stato un investimento da parte di adn ma è stato un investimento sicuro sulle proprie capacità perché ho accettato di fare lo sputnik perché comunque adn non produce soltanto materiale biologico ma è l'unica società al mondo grazie a un brevetto che permette di liofilizzare tutti i prodotti citotossici in plastica ready to use cioè anziché andare in ospedale per essere trattati si riceve a caso una sacca la si schiaccia la si agita la si dà al paziente questo è stato un brevetto tecnologico importante perché nessuna azienda è mai riuscito a liofilizzare in plastica tutti liofilizzano nel vetro compreso la grande pfizer quindi non solo potevamo avere le capacità per fare lo sputnik però ho sempre pensato che entrare in mercati con nuove tecnologie è sempre un'opportunità quindi ok io ti do la possibilità iniziale di produrre lo sputnik e poi vediamo se altre cose possono avvenire e siccome il mercato russo è un mercato interessante perché non affrontare questo questa avventura tengo a precisare che sono già stati prodotti dell'otti molto belli tra l'altro devo dire e in questo momento circa 20 minuti fa l'EMA l'agenzia europea ha chiesto un'ispezione al sito di caponago quindi andremo a definire insieme all'aifa questo per dirvi che comunque come all'inizio di tutto questo grande boom si produce lo sputnik per l'europa cioè l'italia produrrà è il referente di produzione per l'europa perché il dossier registrativo è europeo non è italiano quindi attualmente chi produce sputnik sono air pharma Moscow adn per l'europa e poi c'è l'india e ci sono altri paesi quindi importante produrre drug substance ok poi per infialettare capaci tutti ok la nostra mission è quella di portare a termine il dossier in modo che sia poi utilizzabile in altri paesi col massimo grado di qualità e già stiamo dimostrando che quello che stiamo producendo noi ha una qualità molto alta altro non ho da dire se non ripetere che sono stato molto contento di lavorare con lei perché ci avete proprio seguito nei minimi dettagli e ci avete indirizzato nel modo giusto con i giusti interlocutori infatti è stato poi anche abbastanza veloce il contratto sebbene abbia riportato poi una grande io ho perso un mese dietro alla stampa perché sembrava quasi che questi qui con tutto rispetto ah ok c'è altro da fare comunque è stato veramente un grosso supporto e spero di continuare a farne capo e a profittare di voi per vi volete grazie grazie a lei mi avevano detto non so se vorrà parlare di Sputnik e invece abbiamo parlato solo di quello eh però è la cosa è la novità è la novità sicuramente è un ehm da qualcosa nato negli ultimi mesi passiamo adesso a Elibert qui parliamo invece di un'esperienza ormai consolidata eh Vladimir Tutukhin è il capo dipartimento logistica e pratiche doganali se ci vuole raggiungere tra l'altro ci ha portato anche la notizia con l'ispezione del Lemo adesso penso che la stampa la riassederà di nuovo per Elibert il dottor Tutukhin c'è? che non vedo muoversi nessuno a l'ispezione del Lemo adesso è in in Russia, con la licenza italiana compagnia Leonardo S.P.A. Anche la compagnia nazivata Augusta Vesson, a anche con l'obsturzionale grattante avanti tipo AWU, AWU-109, AWU-139, AWU-189, come rossi, come rossi, come rossi, come rossi, come rossi, come rossi, come rossi. Il rossi, come rossi, come rossi. Il rossi, come rossi, come rossi, come rossi. Il rossi, come rossi, come rossi, come rossi, come rossi. e il moscopo il vero dell'azienda. Per wybere terribili, questo è stato fatto con l'obiettivo, perché qui sono disponibili le competenze in obiettivo di vero dell'azienda. Il compagno dell'azienda italiana dell'azienda dell'azienda era un'azienda per l'azienda per l'azienda per l'azienda per l'azienda per l'azienda. Grazie a tutti. 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 Buonasera a tutti. Banco BPM nasce in gennaio del 2017 dalla fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. sono due banche cooperative, quindi due banche caratterizzate da un forte radicamento territoriale e una vicinanza con le piccole e medie imprese. Banco BPM è il terzo gruppo bancario italiano e è una società per azioni. Però dalle due banche ha ereditato e continua a mantenere questa forte vocazione sia di radicamento territoriale che di supporto alle piccole e medie imprese. Un radicamento territoriale che si sviluppa attraverso una rete di più di 1500 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale ma con una forte concentrazione nel nord e nel centro dell'Italia. Soprattutto Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna che rappresentano poi le regioni dove nella maggioranza dei casi sono radicate le nostre industrie. Abbiamo una quota di mercato in questa parte dell'Italia che va dal 9 al 13%. Avendo questa vocazione ovviamente tra i nostri 4 milioni di clienti abbiamo anche grossi gruppi industriali però manteniamo ripeto questa nostra vocazione che sviluppiamo soprattutto attraverso un concreto supporto all'attività estero. Attività estero che ovviamente si sviluppa in molti paesi ma per quanto riguarda la Russia, la Russia rappresenta sicuramente uno dei maggiori. Storicamente è sempre tra i primi 10 paesi per le nostre attività di trade finance. Il supporto che noi diamo alle nostre imprese è un supporto sia all'attività export attraverso i classici strumenti quali possono essere la possibilità di inviare e di ricevere pagamenti rubli, la possibilità di emettere garanzie sia in Russia sia in Italia su richiesta di controparti russe e anche la possibilità di emettere lettere di credito a favore di beneficiari russi per la nostra attività di import ma anche soprattutto di confermare lettere di credito emesse dalle banche russe a favore dei beneficiari italiani, nostri esportatori. Questo è un aspetto molto importante perché grazie alla conoscenza che abbiamo del sistema bancario russo siamo in grado di confermare un gran numero di banche russe. Su questo punto devo sottolineare l'ottimo lavoro fatto negli ultimi anni dalla banca centrale russa sotto la guida del governatore Nabulina che ha operato un forte processo di rinnovamento e di consolidamento del sistema bancario russo. Questo ci permette, ripeto, di affrontare il rischio paese e il rischio banca con molta consapevolezza e molto equilibrio. Il radicamento territoriale che abbiamo è sicuramente un indubbio vantaggio per quanto riguarda uno dei due temi del convegno di oggi, quindi il rapporto, lo sviluppo tra le regioni italiane e le regioni russe. Per quanto riguarda l'altro tema, quindi quello delle joint venture, quindi un normale passaggio direi industriale da una semplice attività di esportazione a una produzione in loco, ovviamente anche in questo abbiamo la capacità operativa di supportare non solo la nostra clientela ma anche tutta l'imprenditoria italiana sia attraverso degli affidamenti a supporto del business, dello sviluppo del business all'estero fino a cinque anni e anche finanziamenti invece specifici su particolari progetti fino a otto anni. Già stato anche citato la messa in opera nella nostra struttura estero di una struttura di export control in grado di accompagnare i nostri clienti o comunque gli imprenditori nella loro attività con la Russia attraverso tutte quelle che sono le nuove normative che sono il risultato dell'impianto sanzionatorio che purtroppo ancora rimane in piedi nei confronti dei soggetti a federazione russa. Vorrei concludere dando da bancario delle cifre perché siamo abituati a operare con delle cifre che sono oggettive e che sono positive, che danno un'immagine concreta non solo dell'importanza che rappresenta la Russia nel business per l'Italia, ma anche di quelle che sono le prospettive. Mi piace sempre citare come cifre l'importo delle lettere di credito ricevute dal sistema bancario italiano, dalle banche russe, perché le lettere di credito continuano a rimanere il principale strumento di pagamento delle nostre ad esportazioni in Russia. Sappiamo benissimo che la prima voce riguarda i macchinari e i macchinari vengono pagati con lettere di credito. Bene, il 2020 sappiamo tutti che è stato un anno molto particolare, molto difficile, un anno di contrazione del nostro export e quindi anche un anno di contrazione per quanto riguarda gli importi di queste lettere di credito. Però bisogna sottolineare che a fronte di una diminuzione nel mondo di importi ricevuti per l'Italia del 26%, quelli ricevuti dalla Russia sono diminuiti dell'11, quindi meno della metà. Quindi questo è un segnale concreto che comunque il business con la Russia si è mantenuto, è diminuito ovviamente, ma è diminuito molto meno di quello che è stata la media moto. Il segnale positivo è che nel primo semestre di quest'anno in generale, quindi c'è stata la ripresa dell'export italiano, ripresa che si è concretizzata con un aumento nel mondo del 34% di questi importi e per quanto riguarda la Russia del 47%. Quindi con questi numeri possiamo sicuramente vedere con fiducia e con positività non solo la ripresa italiana, la ripresa del nostro export, ma anche la continuità e la ripresa del business con la Russia. Vi ringrazio. Grazie per usare una parola così molto in boga alla resilienza, che però non possiamo più sentir dire, non ce la facciamo più a sentir dire resilienza. Ultimo collegamento, Salvatore De Gregorio, il direttore generale di San Marco Russia, è appunto in video. Buongiorno, anzi buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Volevo ringraziare dell'invito e della partecipazione a questa convention, ringraziare i dottor Trani per l'invito. Posso solo testimoniare e confermare tutti i temi che sono stati affrontati, tutti i temi utili per le aziende che vogliono investire e noi siamo testimoni di questa esperienza. Infatti la San Marco non poteva non rimanere indifferente di fronte a un mercato così esponenziale, così o di opportunità e dopo diversi anni di collaborazione commerciale e quindi sempre più di richiesta del prodotto made in Italy in Russia, è venuto a prendere la decisione di portare avanti il progetto di una produzione in loco sul territorio russo. Con questo volevo ringraziare anche la Finest e l'IC Partner che hanno partecipato con i loro strumenti di investimento, strumenti di promozioni per lo sviluppo del business italo-russo e che ha fatto sì di realizzare questa realtà. Di 15.000 metri quadri ci troviamo nella zona economica di Calucra, usufruiamo delle agevolazioni italo-russe, degli accordi che sono stati presi anche da parte dei nostri esponenti politici e dobbiamo dire che anche da parte nostra che stiamo portando avanti questo progetto e ci stiamo mettendo tutta per portare avanti il marchio made in Italy prodotto in loco. Infatti noi produciamo diversi tipi di pittura per l'edilizia, tra quelli standard e anche quelli specifici dedicati a diverse condizioni di umidità, antincendio, comunque a seconda delle richieste del mercato sia dagli enti privati che strutture pubbliche. E nonostante la presenza sul mercato di brand storici comunque vediamo un segnale positivo dalle richieste dei clienti e di crescita che comunque rafforzano i nostri progetti e le nostre intenzioni di far crescere l'azienda, investire in macchinari italiani e quindi di innovare sempre di più le nostre linee produttive e quindi di far crescere i volumi di produzioni locali. Mentre da parte, come diceva prima anche il signor Anatori Korzov della Camera di Commercio di Lipetsk o di Ivan Razuvaev della Camera di Commercio di Lechnogrod, anche noi io come italiano residente in Russia da tanti anni sono molto grato del supporto della popolazione russa, dei tecnici russi, dello scambio di rapporto, quindi c'è uno scambio storico, tra i due paesi che comunque vale molto e dice molto e lascia molte aspettative da parte degli investitori italiani. Mi ringrazio di aver partecipato alla riunione e siamo contenti di essere qui in Russia e di far bene sia per lo Stato italiano, per l'Italia e portare avanti il brand made in Italy all'estero. La ringraziamo molto. Una buona serata. Presidente Trani, siamo giunti veramente alla conclusione di questo incontro in cui ci ha fatto spaziare dalle istituzioni alle imprese. Che polso e che conclusione vogliamo trarre da questa giornata? Beh, senza dubbio io trarrei delle conclusioni importanti con la giornata di oggi. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato tanto, abbiamo attraversato insieme un momento difficile della storia delle relazioni politiche, delle relazioni istituzionali durante questi ultimi anni e abbiamo attraversato insieme quella che secondo me è stata una difficile situazione a livello mondiale, anche sanitaria, no? Relativa a quella che è stata la nostra pandemia. Insieme abbiamo affrontato questi problemi e nella giornata di oggi abbiamo capito che stare insieme, diciamo, in lingue diverse, come rappresentanti di aziende diverse, di settori diversi, e ci accorgiamo che effettivamente stando insieme risolviamo molte cose, non tutte, ma ne risolviamo parecchie. E il mio interesse da questo punto di vista è sottolineare questi aspetti e come Presidente della Camera di Commercio della Russia devo dire che, ecco, questo stare insieme tra Italia e Russia io lo vivo quotidianamente, no? Vivo quotidianamente il rapporto con gli amici della Camera di Commercio russa che sono non ospiti, ma sono parte della Camera di Commercio italo-russe, sono all'interno della Camera di Commercio italo-russe. Sento da questo punto di vista di ringraziare il Dottor Kurochkin e chiaramente il Presidente della Camera di Commercio di New York, di Lipeck, di Tatarstan, chiaramente, e i Presidenti delle Camera di Commercio italiane che hanno partecipato oggi al... Abbiamo dovuto selezionare, avete dovuto selezionare, perché tante sono le Camere di Commercio che hanno già avviato il legame, quindi abbiamo fatto un assaggio, ecco, diciamo, delle relazioni. Esattamente, e diciamo che con questa esperienza abbiamo imparato a, senza dubbio, comunicare di più, stare di più insieme, ricominciare a incontrarci di persona. Noi continueremo con i colleghi della Camera di Commercio russa a vederci, chiaramente, a lavorare insieme. Portiamo a casa oggi un nuovo Vice-Segretario Generale, il Dottor Galsov, qui a Milano, per cui questa è sicuramente una ritoria da questo punto di vista, avendo avere un giovane figlio di Milano, da questo punto di vista, perché ha studiato qui a Milano e parla italiano addirittura meglio di molti italiani, e quindi vi permetto, insomma, di essere soddisfatto della giornata. E devo dire che volevo da questo punto di vista ringraziare in modo particolare tutti quanti, permettetemi di ringraziare in particolare i nostri sponsor, il Banco BPM, e permettetemi di ringraziare Pavia Anzaldo, lo studio legale Pavia Anzaldo, la società Hallers, MAPEI, Salotto di Brera, GU Group, e permettetemi in particolare di ringraziare la dottoressa Bettin, che con tanta pazienza ha portato avanti il nostro incontro, perché è stato oggettivamente piuttosto lunga, la giornata è stata molto lunga, quindi ecco, ancora grazie. È lunga per me, ma lunga anche per voi e per tutti loro. Mi consente di dire una cosa, ho ricevuto una mail, mentre c'era, ho ricevuto una mail vostra da Camera di Commercio, il 30 settembre avete un altro incontro sulla cultura, quella oggi l'abbiamo toccata meno, però ecco, insomma, non si finisce qui, siete in pista di nuovo il 30. Grazie a tutti davvero e buon proseguimento alla prossima occasione. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie. Grazie.